Diamo inizio al Consiglio con l'esecuzione dell'inno nazionale. Grazie a tutti. 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 delle varie federazioni sportive italiane e non solo. E quindi davvero un momento importante che mi ha visto presente in questa giornata e un grazie particolare va alle due società, in particolare ai due presidenti Palmieri e Calonico per il lavoro che svolgono quotidianamente ma soprattutto ai tanti volontari che prestano il loro aiuto quotidianamente, soprattutto per far crescere i giovani della nostra città intorno a questo sport che quest'anno ha festeggiato i 50 anni per quanto riguarda la squadra femminile e già qualche anno fa ha festeggiato lo stesso traguardo con la squadra maschile. Quindi davvero un'occasione importante, un'occasione che come diceva bene il sindaco prima speriamo si possa ripetere, cosa non assolutamente semplice, se abbiamo dovuto aspettare i 50 anni perché avvenisse questa cosa vuol dire che è stato fatto qualcosa di veramente grandioso. Io credo che però vedendo la squadra, vedendo la composizione anche della squadra che ha delle componenti assolutamente di esperienza con la presenza anche di olimpionici che hanno partecipato alle Olimpiadi ma vede una presenza importante di giovani braidesi sia a livello maschile che femminile che sono sicuramente il futuro di queste due grandi società. Grazie. Grazie al vice sindaco. Non ci sono più comunicazioni quindi potremmo dire che l'ok di Bra è ok e mentre ho la parola, si può dare la parola al consiglio di Marengo, mentre ho la parola avete visto che sui nostri banchi c'è questo promemoria wifi sala consiglio, è la prima volta che la sala consiglio si attrezza della copertura wifi quindi ringrazio l'assessore Gravero che come l'assessore dell'innovazione ha provveduto anche a questa opportunità, mi raccomando sia usata con modica quantità e non per distrarsi e non per distrarsi. Quindi grazie all'assessore e alla giunta. Consigliere Marengo, prego. Grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti. La comunicazione è velocissima. Abbiamo appreso in questi giorni anche sul sito del Comune di questa innovazione di queste due app che riusciremo ad avere, non so se sono già attive o comunque lo saranno presto, Municipium e Smart Piano. Soprattutto per quello che riguarda la Smart Piano siamo felici con i colleghi di Somalia ed Elena di vedere che ha ricattato molto da vicino quello che era stata la nostra mozione del 2017. Si spegne in automatico. È il wifi. Avevamo presentato questa mozione appunto per fare questa richiesta per dare un sostegno e uno strumento in più al Comune di Bra nell'eventualità di gelate improvvise, strade chiuse e quant'altro per poter arrivare al maggior numero di persone possibili. Quindi il fatto di vedere oggi la realizzazione di questa nostra richiesta non può che farci piacere. È vero che è passato un po' di tempo perché la nostra mozione era del 23 gennaio 2017, è passato un anno e mezzo. Però detto questo siamo contenti che l'amministrazione abbia preso in considerazione i nostri suggerimenti, che gli abbia fatti i propri e che oggi il Comune di Bra abbia uno strumento in più per arrivare i nostri concittadini. Grazie. Grazie. Consigliere Milazzo, prego. Grazie Presidente. Oggi si è chiuso l'anno sociale, prima della fermata estiva obbligatoria, del centro Cucum, il centro anziani del quartiere Bescurone. Si è chiuso con un pranzo tutti insieme a cui hanno partecipato una quarantina di persone. Mi hanno chiesto così di portare il loro saluto a tutti i consiglieri anche e all'amministrazione in particolare perché è sempre vicina a quello che sono le attenzioni e alle loro necessità. Mi hanno anche detto di essere portavoce affinché si trovi una soluzione, auspicano almeno una soluzione per quanto riguarda la riqualificazione dell'area adiacente proprio al comitato di quartiere dove il centro anziani Cucum è ospitato. Questo perché? Perché ne cadrebbe beneficio anche su di loro in quanto comunque gli spazi sono limitati e sarebbe bene quindi anche per tutti loro. Per cui oltre ai loro saluti e ringraziamenti porto anche questa richiesta affinché l'amministrazione faccia di tutto perché il bando che non è passato così come era stato proposto possa essere comunque eventualmente ripresentato. Grazie. Grazie consigliere Non ci sono più interventi sulle comunicazioni. Consigliere Maggiù, prego Grazie presidente. Faccio seguito insomma alla mia interrogazione che ho presentato nello scorso Consiglio Comunale riguardante il manto stradale. Due punti. Uno, bel lavoro, è stato fatto molto velocemente, è stato fatto tempi record. Per un'altra complessità, io nella mia interrogazione presentavo un racconto di alcune persone che hanno avuto problemi nella zona pedonale della via via Sobrero, parlavamo di tutta la via davanti alle case popolari. Il tratto di strada che è stato fatto invece era il rettilineo che porta alla casa dei Carabinieri che sì aveva un problemino ma non pericolante per i pedoni. La parte invece interna che era quella su cui ho fatto l'interrogazione non è stata presa in considerazione dai tecnici. Ne ho parlato con l'assessore competente, so che i lavori sono già stati fatti, non so quanto ci sia ancora di budget per quella operazione di ristrutturazione, insomma di rifacimento del manto stradale. Chiederei se è possibile rivedere quella zona perché sono ritornato di nuovo ieri sera ed è veramente pericolosa. Ma lo dico in un'ottica di vivibilità delle persone che vivono là. Si avvicina l'inverno, fra 5-7 mesi ci sarà l'inverno e diventa veramente molto pericolosa perché su alcuni tratti ci sono quasi 10 centimetri di profondità. Non ho presentato nessuna interrogazione, nessuna mozione perché do ancora valore anche alle comunicazioni fatte in maniera semplice. Grazie al Consigliere Maju. Possiamo andare avanti con l'ordere del giorno, quindi se non ci sono più richieste di intervento, non ce ne sono. Cominciamo con le interrogazioni. La prima affirma del Consigliere Roberto Marengo che interroga la Giunta sulla pericolosità della viabilità in corrispondenza del tratto via Cuneo in prossimità di via Montello. E su cosa? Di Marengo? Ah, prego, sì, sì. Perché la firma è solo di Marengo. Io non porto via molto tempo, anzi approfitto per una mozione d'ordine velocissima. Presidente, riuniamo il Consiglio alle 14.30, in pieno orario lavorativo alle 16.30 e iniziamo quasi le 17.00. Quindi io richiamerei magari una maggiore puntualità. Detto questo, velocemente, volevo solo comunicare che mi unisco, seppur verbalmente, alle due interrogazioni che ha presentato il Consigliere Marengo. Ringrazio per l'attivazione del Wi-Fi, anche se proprio oggi che ha letto il giornale ha visto che l'amministratore delogato, nonché Presidente di Apple, dice che bisogna fare un passo indietro sull'utilizzo degli smartphone e del costo. Grazie. Grazie a lei. Quindi, idealmente, si associano alle interrogazioni del collega Marengo. Quindi, prego, Consigliere Marengo, prima interrogazione. Grazie, Presidente. La prima interrogazione nasce da un'esigenza che mi è stata manifestata da molti abitanti di Via Cunio, di Via Montello. Ma la vedo quotidianamente anch'io, perché vivendo in zona passo ovviamente spesso in quel tratto di strada. Allora, definiamola l'ex rotatoria in concomitanza con Via Montello, una rotatoria a cui noi, come centrodestra, ci eravamo già opposti, ritenendola un'opera non assolutamente adatta alla viabilità di quel tratto stradale, che cambiava anche la viabilità di tutta una serie di vie del circondario. La problematica oggi nasce dal fatto che, pur essendo stata grattata, la rotonda è ancora molto visibile. Ne avevo parlato anche con il Sindaco una di queste sere, avevo fatto presente la cosa. Io sono stato testimone, in almeno un paio di occasioni, di automobili che utilizzavano questa rotatoria per addirittura fare inversione di marcia. Non aiuta la segnaletica stradale orizzontale, perché, diciamo, per chi arriva da Roreto, arrivando verso la zona di Bra, per esempio, sulla strada ci sono ancora, diciamo, non più molto visibili, ma ci sono ancora, e anche questi inducono in errore, i classici segni triangolari del rallentamento. Mentre invece, nel momento in cui si arriva in prossimità di questa rotonda, quella che è la striscia, diciamo, di mezzeria, si allarga alla fine e in prossimità della rotonda, della rotatoria, inducendo comunque in errore molte persone e creando situazioni di pericolo. Chi abita in zona, io ho assistito nel giro di un'oretta a due, diciamo, a due tentativi di inversione ad U, di automobili che hanno utilizzato questa rotatoria, ma mi dicono che quotidianamente sono testimoni di scene simili, quindi di automobili che o inchiodano all'ultimo minuto perché vedono magari sulla strada i segni della rotatoria o addirittura, come in questi casi, li utilizzano per fare un'inversione. Quindi la mia interrogazione verte sulla richiesta all'amministrazione di quali siano le intenzioni per porre in sicurezza, in maniera definitiva, questo tratto di strada. Grazie. Grazie, consigliere. Risponde l'assessore Messa. Sì, buongiorno a tutti. Femmissando che non sapevo che nell'arco di un'oretta ben due persone hanno cercato di fare il giro, quindi vuol dire che tutto sommato forse quell'idea aveva perlomeno un fondamento, rimane il fatto che, saputo che la realizzazione di quella rotonda, cima di via Montello, è venuta in via sperimentale per tentare di risolvere il problema del rallentamento del traffico prodotto del semaforo di corso 4 novembre, visto che la volontà era quella di puntare a un miglioramento ambientale. È noto che la sperimentazione non ha avuto il successo sperato e, pertanto, la rotonda è stata cancellata con il colore nero, ma sappiamo che in controluce risulta ancora parzialmente visibile, sebbene sia stata eliminata la segnaletica verticale. Per una soluzione definitiva è necessario fare la frezzatura dell'asfalto e sostituirlo con un nuovo tappetino, operazione su cui stiamo lavorando e che speriamo di fare al più presto. Grazie all'assessore. Prego, consiglio Elmerengo. Grazie, Presidente. Prendo atto delle parole dell'assessore. Mi auguro che questo lavoro venga fatto al più presto, proprio perché in questo momento la strada è non solo utilizzata tanto quanto prima, ma addirittura di più dopo la chiusura della salita del Bergoglio. Quindi si creano situazioni ancora più pericolose. A me è capitato, ero lì a prendere il caffè nel giro, ma forse di mezz'ora, forse è stato un caso. Allora, informandomi e chiedendo agli altri, mi è stato confermato che questa è una cosa normale, cioè che accade tutti i giorni, più volte al giorno. Certo, avrei dovuto probabilmente prendere 28.000 caffè e fermarmi tutto il giorno. Le avrei dato un dato più puntuale e più preciso. Un dato più puntuale e più preciso. Detto questo, confido nelle sue parole e confido che questa amministrazione ponga, ma in tempi rapidi, prendo atto delle sue parole, in tempi rapidi soluzione a questa problematica. Grazie. Grazie. La seconda interrogazione, sempre a firma del consigliere Marengo, riguarda la situazione dei passaggi pedonali di via Cuneo, pericolose a causa dello sbiadirsi delle strisce pedonali. Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Diciamo, questa interrogazione ricalca un po' quello della prima. Uso il termine ricalcare, nel senso che ne avevamo veramente bisogno di una nuova strisce pedonali. In realtà, questa interrogazione è un po' stata superata dagli eventi, nel senso che io l'ho presentata mercoledì, venerdì, se non ricordo male, alcune strisce sono state rifatte. Ne prendo atto, mi fa piacere, anche perché la mia interrogazione nasceva dal fatto che, credo nell'ultima, commissione lavori pubblici, proprio a domanda mia e del collega Elena sui tratti di via Cuneo, l'assessore aveva risposto che nulla tra le varie idee di lavori pubblici che da qui all'anno prossimo sarebbero stati fatti, nulla riguardava via Cuneo, un po' perché la giustificazione era stata che, con l'aumento del traffico proprio dovuto alla chiusura della strada del Bergoglio, non c'era proprio il tempo materiale e la disponibilità per poter fare alcun tipo di lavoro, né sul manto stradale né sulle strisce. Però le strisce, effettivamente, su tutto il tratto di via Cuneo, almeno fino al tratto della rotatoria di cui parlavamo prima, erano totalmente sbiadite. Le persone continuavano ad attraversare la strada, spesso e volentieri, anche qui, ma lo dico perché per lavoro e tornando a casa a piedi faccio quel tratto di strada e spesso e volentieri le macchine o non si fermano o perché non vedevano le strisce o addirittura magari inchiodavano all'ultimo minuto, addirittura pedoni incuranti attraversavano convinti di essere sulle strisce e magari lanciando qualche strado e qualche maledizione all'automobilista in cauto che non si fermava. Una parte è stata, ho visto che è stata ripristinata, manca, secondo me, una parte importante all'altezza di via Cuneo, più o meno dove c'è la moschea, tendenzialmente. C'erano delle strisce pedonali lì davanti che sono ancora visibili e utilizzate. Quindi io non so quale sia l'intento dell'amministrazione, se considerare ancora quello un passaggio pedonale e quindi si necessita sicuramente un nuovo intervento oppure, se non considerarlo più, passaggio pedonale, però in quel caso bisogna raschiare l'asfalto perché effettivamente i rimasugli di queste strisce ci sono e inducono spesso in errore. Grazie. Grazie al consigliere Marengo e anche in questo caso risponde l'assessore Messa. Sì, effettivamente le strisce pedonali sono state fatte verso la fine della scorsa settimana, non tanto perché è stata fatta l'interrogazione, senza nulla a togliere al consigliere Marengo, quanto piuttosto perché in questa stranissima estate, solo all'inizio della settimana scorsa, abbiamo avuto tre giorni consecutivi di sole, tale per cui ha permesso di avere le strade asciutte per cui poter effettuare la segnaletica orizzontale. E' quindi partita l'attività di ripassamento delle strisce pedonali e non solo della segnaletica orizzontale nella città e fra gli altri interventi sono stati fatti anche quelli di via Cuneo. Alcuni attraversamenti pedonali sono stati ridunti prioritari, altri verranno valutati anche in funzione delle elaborazioni che dovranno essere fatte nei prossimi mesi in quella zona, fra cui gli interventi per la rotonda in cima alla salita di Carasco e poi ci auguriamo di fare anche altri interventi sulla totale via Cuneo. Grazie. All'assessore, il consigliere può replicare, prego. Grazie. La mia risposta ricalca quella di prima. Prendiamo atto di questa intenzione dell'amministrazione espressa dall'assessore. Non voleva assolutamente essere il mio un farsi bello col lavoro altrui. E' ovvio che non è stata la mia interrogazione a sollecitare in questo momento l'amministrazione a rifare le strisce. Certo che quel tratto di strada è molto pericoloso. Chi lo frequenta, il Presidente ci ha abitato per molti anni, sa quanto è trafficato, sa quanto è battuto, già normalmente, senza considerare la situazione attuale che si protrerà, credo, nei prossimi mesi, perché i lavori per la salita a Carasco sicuramente non finiranno in tempi brevi. Abbiamo però bisogno di avere più sicurezza in quel tratto stradale. Ripeto, ringrazio per il lavoro che è già stato svolto, che ricalcava le intenzioni della mia interrogazione, cioè proprio il fatto di porre in sicurezza quel tratto di strada. Credo che però, a memoria, mi posso sbagliare, ma sia comunque in questo momento la strada più trafficata e più, in certi casi, pericolosa di tutta la nostra città. Credo che meriti nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, un'attenzione maggiore proprio rispetto a questo dato. Grazie. Grazie a lei. Grazie a lei. Andiamo avanti nelle interrogazioni. La terza interrogazione affirma dei consiglieri Tripodi e Panero che chiedono all'aggiunta informazioni in merito all'acquisizione e alla gestione del tratto di strada Orti. Prego, uno dei due firmatari. Consigliere Tripodi, prego. Prego, ascoltiamo subito la risposta, tanto in sintesi. Era quella la nostra domanda. Grazie. Viene, allora risponde il sindaco. Prego. La risposta sarà molto breve perché non ci sono grandissime novità rispetto all'incontro che abbiamo avuto nella Commissione Lavori Pubblici, mi sembra, nella quale avevo dato conto dell'incontro avuto con il direttore regionale, dirigente regionale di ANAS, l'ingegnere Gemelli. Da allora ci aveva preannunciato l'invio di una lettera che a tutt'oggi non è arrivata. Direi che le novità sono sostanzialmente due. Una è che sindaci di altri comuni mi hanno interpellata per sapere come ci muoviamo rispetto ad ANAS, perché abitanti di Monticello piuttosto che di altri comuni hanno ricevuto lettere simili alle nostre. questo non è della serie Malcomune Mezzogaudio, ma della serie che questo tipo di intervento di sistemazione di una pendenza che è molto vecchia e che è assente il consigliere Elena, ma durante la riunione ricordava come questa problematica siano anni e anni che è posta e il secondo aspetto è che alcuni cittadini o a voce o prescritto hanno chiesto all'amministrazione di farsi carico di questa strada. A questi cittadini al momento non abbiamo risposto perché credo che debba aprirsi un confronto con ANAS rispetto da un lato ad una situazione che ovviamente ha degli elementi certamente di irregolarità, inutile che poi sono cose molto vecchie che si perdono nel tempo, che sono in quanto tali anche molto difficili da aggiustare perché sono a volte molto diverse da una situazione all'altra, c'è chi ha avuto delle autorizzazioni comunali in questi anni, c'è chi… ci sono varie questioni che ovviamente rendono la pratica più complessa. Per quanto ci riguarda, certamente abbiamo molto chiaro che fin dal momento in cui hanno ricevuto la lettera ci siamo immediatamente mossi e questo è servito, tant'è che è stata mandata una lettera di sospensiva della chiusura, certamente non lasceremo i nostri concittadini nell'impossibilità di poter rientrare nei loro domicili laddove non esistano possibilità di strade diverse, ma credo che sia una questione di responsabilità che un'amministrazione ha nei confronti dei propri concittadini. Quindi nei prossimi giorni credo che ci saranno nuovamente degli incontri e ovviamente a fronte di questi man mano ci saranno, verrete mantenuti costantemente informati dell'evoluzione della situazione che in questo momento non ha da parte del Comune nessuna risposta scritta di nessun tipo relativa all'impegno a farsi carico di questa strada. Al tempo stesso il ragionamento che dovrà essere fatto è quello di capire come, in che modo, in che forma possa essere gestita una situazione nella quale decine e decine di famiglie a partire da Cuneo, soprattutto da 231, ma credo sulle statali più in generale possono trovarsi nella situazione di non avere i cento metri di distanza che impone il codice della strada e non già i marciapiedi o l'illuminazione sono un elemento che determina il fatto che sia centro abitato. Ma se andiamo a vedere che cos'è che determina il centro abitato è la lettura del codice della strada e quindi l'avvicinanza degli abitati, delle case, tali per cui vi sono degli accessi a meno di cento metri che è considerato il limite inferiore e quindi sulla base di questo vi dico tutto l'impegno da parte di questa amministrazione per fare in modo che questa pratica abbia una grande attenzione come ho già scritto al ministro, al neo ministro per quanto riguarda l'asticuneo mi auguro che questa vi sia una risposta celere dal momento che dall'Europa è arrivata la documentazione che si attendeva e che in questo momento attende una firma del ministro, un passaggio in cipe il cipe è già stato informato per poter iniziare i lavori ho messo la questione dell'asticuneo perché in qualche modo è interconnessa con la questione di salita orto grazie al sindaco, il consigliere Tripodi può replicare grazie sindaco, grazie presidente per la risposta su questo argomento abbiamo cercato di far comprendere che abbiamo una posizione molto molto chiara anche noi abbiamo interesse che i residenti di quel tratto di strada abbiano nel futuro la possibilità di accedere in maniera come ad oggi avviene all'interno dei propri domicili ma la questione è più di carattere politica generale per il semplice fatto che ad oggi quella strada viene considerata una strada che non ha più gli elementi caratteristici di una provinciale e che quindi il comune di Brà dovrà acquisire la gestione e la competenza di quel tratto tratto che non sappiamo bene da dove parte e da dove finisce ma che comunque super giù sappiamo che quella strada per questioni vecchie perché diatribe anche che hanno, si parla di decenni riteniamo però opportuno che visto e considerata che quella strada lì per la nostra città e per il nostro territorio è stata l'asticuneo e lo è tuttora riteniamo che con qualsiasi ente sovracomunale che venga a imporci e che imponga con delle lettere quasi dove si impongono dei diktat si deve rispettare la legge noi la legge intendiamo rispettarla sempre e intendiamo anche da Braidesi non abbassare la testa visto e considerato che l'asticuneo per legge doveva essere conclusa anni e anni addietro e questo non avvenne quindi assolutamente noi non vogliamo passare per quella parte politica che è tra virgolette disinteressata di quello che potrebbe essere il problema concreto dei residenti che abitano in quelle zone assolutamente no di fatti la nostra posizione è molto chiara noi ci prendiamo le nostre responsabilità ma ci prendiamo e ci assumiamo le nostre responsabilità nel momento in cui quella strada e le altre strade e quindi l'asticuneo e non soltanto l'asticuneo perché penso che possiamo permetterci anche di alzare la voce e anche tutto il trattoviario che poi dovrà portare per l'ospedale di Verduno verranno conclusi e allora poi noi lì ci prenderemo la responsabilità come comune, come amministrazione comunale a far fronte a quello che saranno costi per tutti i cittadini braidesi quindi in questo momento chiedo come gruppo che il sindaco abbia un atteggiamento completamente e l'amministrazione abbia un atteggiamento completamente diverso rispetto a quello che ha oggi qui si tratta di un argomento che ha toccato per anni la nostra città ripeto, quel tratto di strada è l'asticuneo di oggi e di sempre ormai quindi non c'è e non ci dovrà essere ente sovraccomunale che ci imponga dei ditta Comune di Bra e il nostro territorio ogni volta ha sempre abbassato la testa adesso con tutte le forze, con tutte le azioni politiche possibili e immaginabili nell'interesse dei residenti della zona ma nell'interesse collettivo della nostra città e anche per un'idea più alta rispetto a quello che potrebbe essere l'interesse particolare o comunque specifico dei residenti della zona dobbiamo batterci nell'interesse di tutti e dire a gran voce e in maniera molto chiara noi assumeremo le nostre responsabilità tutto dovrà rimanere tale tale e quale fino a quando quindi i residenti dovranno stare tranquilli di poter entrare all'interno delle proprie case e soltanto dopo la conclusione dell'asticuneo allora non forse prenderemo l'impegno ci assumeremo l'impegno di acquisire e di far rispettare la legge che purtroppo enti sovracomunali da troppi anni non hanno rispettato vedi assicuneo vedi ospedale di verduno vedi tante altre opere iniziate e mai realizzate quindi non in questo momento non andiamo con toni sempre troppo leggeri e sempre troppo aperti a quello che potrebbe essere un dialogo, un confronto non c'è confronto in questo momento non c'è confronto il comune di Bra ha avuto per anni la strada provinciale all'interno della sua città e poi le dirò di più se quella se quella tratto lì non è un tratto provinciale e allora incominciamo a non far passare neanche più i mezzi pesanti da quel tratto visto e considerato che quella provinciale, statale, scusate visto e considerato che uno dei tratti distintivi delle nostre strade urbane è appunto quello in cui i mezzi pesanti non possono passare voglio vedere da dove passerebbero quindi si tratta di avere buon senso e si tratta di non abbassare la testa per una volta grazie grazie proseguiamo quarta interrogazione stessi firmatari Tripodi e Panero oggetto sistemazione fioriera all'ingresso di via Vittorio Emanuele angolo via Audisio consigliere Panero prego grazie presidente buonasera a tutti oggetto sistemazione fioriera all'ingresso di via Vittorio Emanuele secondo angolo via Audisio sottoscritti Tripodi Davide e Panero Sergio in qualità di consiglieri comunali del comune di Bra premesso che di recente sono state collocate in modo diverso le fioriere d'accesso in via Vittorio Emanuele secondo angolo via Audisio che l'attuale sistemazione obbliga le vauture in accesso a un cambio di direzione che converge verso la vicina panchina creando una situazione di pericolo chiedono che si intervenga dell'anea nell'area o con una nuova collocazione delle fioriere o con lo suppostamento della panchina in oggetto grazie risponde ancora l'assessore Messa come probabilmente voi sapete in questo periodo c'è la manifestazione aperitivo in console per la manifestazione aperitivo in console è stato predisposto un piano di sicurezza che prevede la necessità per i mezzi che entrano nelle zone interessate alla manifestazione di fare delle chicane è stata pertanto in accordo con le forze dell'ordine spostata questa fioriera che non viene poi a sua volta rispostata al termine di ogni serata proprio per evitare che la stessa si possa rovinare essendo molto pesante la panchina invece è inchiodata a terra e quindi visto che al termine della manifestazione la fioriera verrà riportata nel posto di origine appena verrà completata la manifestazione il tutto tornerà nella situazione originale grazie grazie l'assessore la replica al consigliere paniero prego grazie presidente allora l'assessore è partito dalle motivazioni lo ringraziamo erano noi note e non abbiamo fatto un'interrogazione per sapere quali erano le motivazioni ma le motivazioni erano conosciute sia per il fatto anche perché non solo in questo accesso della città sono state spostate le fioriere in modo che si debba fare una chicane per accedere e anche le motivazioni della sicurezza erano noi note questa interrogazione è nata perché io ho legato una fotografia all'interrogazione purtroppo scansionata è arrivata veramente poco leggibile o poco visibile invece in quella originale cioè quindi quella arrivata ai consiglieri in quella originale inviata è ben chiara e si vede come casualmente la fotografia è stata fatta mentre la panchina era occupata da delle persone che ci sedevano questa interrogazione è nata appunto perché abbiamo avuto delle segnalazioni da chi ha diritto ad entrare che obiettivamente non sono più tantissimi perché è una zona TTTL comunque i residenti e chi ha accesso a poter entrare questa chicane punta proprio direttamente verso questa panchina cioè le macchine sono obbligate nel cambio di direzione che fanno a puntare direttamente verso questa panchina e se in questa panchina è seduto qualcuno oppure peggio ancora vi è la presenza di qualche mamma con qualche passeggino il passaggio diventa veramente pericoloso e stretto quindi la nostra richiesta andava nella direzione anche se è temporaneo e gli aperitivi in console la manifestazione a cui si riferiva l'assessore è quasi finita diciamo si volge agli ultimi venerdì chiedevamo se era possibile fare magari lo spostamento delle fioriere in maniera che il cambio di direzione dell'auto potesse essere potesse avvenire nell'altra direzione o addirittura spostare la panchina che sarà anche inchiodata ma penso che non sarà lì inchiodata per sempre può essere spostata in maniera anche solo temporanea e poi rimessa al proprio posto ma questo proprio per sottolineare che abbiamo ricevuto in questo senso molteplici segnalazioni dove anche si vede dalla fotografia come la fioriera più avanti per capirci verso via Vittorio è molto invade è molto in mezzo alla strada e obbliga assolutamente a puntare l'auto verso la panchina quindi non penso che sia una cosa così complicata o un provvedimento così difficile o oneroso poter spostare risolvere la situazione o spostando le fioriere nell'altro senso oppure per quanto si riguarda di poche settimane andare a spostare la panchina grazie ultima interrogazione stessi firmatari Tripodi e Panero che interrogano l'aggiunto sulla comparsa di una voragine pericolosa in strada Terrapini nella frazione di bandito consigliere Panero prego anche qui abbiamo ho ricevuto delle telefonate spaventate che mi dicevano non so quanto scherzosamente ci crolla la terra sotto i piedi in seguito a questo allora e ho le foto anche che mi sono state inviate e di persona sono andato a verificare che non fosse una solita buca della strada come purtroppo tante ce ne sono allora in seguito a questo abbiamo presentato questa interrogazione premesso di aver visto la comparsa di una voragine pericolosa inflazione bandito lungo strada Terrapini angolo strada vecchia Torino con una visibile depressione di un'ampia area circostante chiedono che si intervenga per la messa in sicurezza dell'area e si va ad una necessità di procedere con una verifica più ampia dell'intera zona a dir vero questa interrogazione è già superata perché l'intervento è già stato fatto ma quando abbiamo protocollato questa interrogazione l'intervento doveva essere ancora effettuato risponde l'assessore Messa quella che lei chiama voragine è trattasi di un buco che si è creato nell'asfalto in data 19 giugno nel tardo pomeriggio sono intervenuti i nostri cantonieri che hanno messo in sicurezza la strada attraverso le transende tant'è che un primo sopralluogo delle 21.10 di Tecnoedil e un secondo delle 22 hanno verificato che la strada era in sicurezza delle verifiche che hanno fatto hanno riscontrato una problematica di perdita dell'acquedotto e hanno organizzato i lavori per il giorno 21 di giugno nel quale è stato completato e sistemata la buca a seguito di specifica richiesta ci hanno confermato che trattasi di problema puntuale legato a una perdita dell'acquedotto grazie all'assessore consigliere Paniero può replicare grazie all'assessore sì riconosciamo che l'intervento è stato il fatto di questo 5 fungoro la fuliamo in tempi rapidi rapidissimi questa diciamo apertura che si è creata presentava una tipologia e un carattere un po' particolare perché tutta l'aria intorno era un'aria che visibilmente di asfalto era depressa e lo stesso buco che si è creato nella strada all'interno era facilmente visibile come tutto intorno non ci fosse la terra quindi che fosse una zona più ampia non solo quella del buco che si è presentato sulla strada che presentava una criticità anche questo ricordo perché e sto parlando di forse 25 anni fa in quella zona lì era presente un fosso aperto dove passava praticamente l'acqua che raccoglieva la parte alta della collina poi nel corso degli anni ci sono state delle modifiche il fosso è stato diciamo come si dice intubato e chiuso per fortuna diciamo questo fenomeno si è verificato davanti al cancello di casa di un nostro ex cantoniero ormai in pensione che lavorava al comune di Bra che poco dopo che si è verificata questo evento è andato al fondo della via ha preso la transenna che è utilizzata per chiudere la strada per gli eventi e ha subito intervenuto per diciamo mettere in prima sicurezza la zona per questo lo ringrazio anche se perché è bello sottolineare come a volte i cittadini di prima persona e in maniera veloce e urgente intervengano in questo modo per il resto adesso la zona è stata messa in sicurezza diciamo è stato sistemato e quindi per questo ringrazio l'amministrazione grazie grazie allora le interrogazioni sono finite andiamo avanti con l'ordine del giorno siamo alla proposta numero 3 l'approvazione dei verbali della seduta precedente dal numero 22 al numero 31 della seduta del 28 maggio scorso se non ci sono interventi o precisazioni possiamo votare quindi segnaliamo la presenza Marengo può ancora segnalare la presenza sì no siamo tutti possiamo votare e vediamo rifacciamo tutto dal principio segnaliamo la presenza dovremmo essere 15 sì va bene va bene votazione chiusa verbale approvato all'unanimità passiamo adesso alla proposta numero 4 regolamento edilizio comunale approvazione il sindaco il sindaco introduce l'illustrazione di carattere tecnico e quindi se necessario magari la persona che ha seguito dal punto di vista tecnico l'architettore in nero faranno tutta una serie di considerazioni che sono più squisitamente tecniche il regolamento edilizio comunale risale a moltissimi anni fa ed è periodicamente stato oggetto di modifiche a seguito di nuove norme di legge oppure di esigenze particolari che si presentavano nel caso di specie ci sono due norme una nazionale e una regionale l'urbanistica ahimè è una delle materie concorrenti e dico ahimè perché credo che credo che l'avere argomenti che sono in parte di competenza dello Stato e in parte di competenza delle regioni poi in parte erano adesso fortunatamente non sono più di competenza delle province determina spesso delle lungaggini delle sovrapposizioni dei problemi di interesse di conflitto tra appunto questi elementi e in questo caso specifico la normativa statale stabiliva che entro il 3 di luglio il regolamento che ha una parte vincolante e una parte invece che può essere oggetto di modifica e di adeguamento al regolamento comunale dovesse essere approvata entro il 3 di luglio dal punto di vista regionale è prevalsa una ipotesi che è stata votata il 21 di giugno mi sembra di proroga di questa possibilità di approvazione per quanto ci riguarda abbiamo valutato anche dal punto di vista delle questioni legali quanto fosse inopportuno non approvare entro il termine stabilito la il regolamento comunale in quanto è almeno discutibile che una legge regionale possa spostare i termini definiti da una norma nazionale e quindi sulla base di questo al fine di evitare elementi di contenzioso elementi di problematicità di applicazione che indubbiamente sono già molto complessi perché la normativa sulle questioni urbanistiche è già molto ampia e molto articolata e molto per evitare appunto di incorrere in possibile contenzioso abbiamo preferito pur affrontando in maniera acelere e ringrazio veramente il presidente i commissari presenti nelle commissioni urbanistiche oltre che lo studio Mellano per la collaborazione e i nostri tecnici abbiamo preferito portare in questa seduta il regolamento ragionando che non si tratta delle tavole del Sinae ma di un regolamento come qualsiasi altro regolamento che in quanto tale tra l'altro molte volte quando viene applicato nel momento in cui viene applicato emergono anche degli elementi e delle contraddizioni non solo su questo anche su altri regolamenti appena approvati qualche mese fa stanno emergendo delle problematicità che dovranno essere che giustamente dovranno essere affrontate e anche in questo caso massima disponibilità ad andare ad approfondire in commissione urbanistica prima e a portare in consiglio comunale il nuovo regolamento questo nuovo regolamento ci permette di evitare anche una questione che poteva in caso di non chiarezza sulla possibilità che una norma regionale modifichi una norma nazionale poteva magari farci trovare nelle condizioni di dover applicare il regolamento regionale unico previsto per tutta la regione cosa che riteniamo che non sia adatta rispetto al nostro comune che storicamente ha un proprio regolamento come ho detto oggetto di varie modifiche negli anni ma che ha che in qualche modo si è anche adeguato a quelli che sono stati i piani regolatori le le metodiche di lavoro non che esistano 8.800 repubbliche all'interno della repubblica italiana ma diverse diverso è il tratto di applicazione della norma di un comune a 1.500 metri di altezza rispetto a una città di 800.000 abitanti o una città di 30.000 quindi credo che la possibilità di avere una parte del regolamento edilizio che possa essere in qualche modo conformata alle esigenze del territorio di riferimento credo sia un elemento assolutamente importante e quindi questo è il motivo per il quale questa sera portiamo la in approvazione il regolamento edilizio il nuovo il rivisto regolamento edilizio comunale grazie al sindaco signor all'asia prego grazie presidente buonasera a lei e buonasera a tutti allora parto dalle considerazioni teste fatte dal sindaco in merito alla questione dell'entrata in vigore del regolamento del nuovo regolamento edilizio nella sua interezza se non andassimo ad approvare oggi il regolamento edilizio preparato dagli uffici in collaborazione con la commissione e con lo studio di consulenza perché volevo fare una precisazione tecnica da un lato e dire che questo regolamento edilizio mi avviso indipendentemente da come la si pensi per quanto riguarda alcune parti su cui noi per esempio abbiamo preparato delle osservazioni in parte accolte in parte no e quindi secondo noi necessiti comunque di modifica è fondamentale che venga approvato oggi altrimenti potremmo rischieremmo di entrare in un in un caos normativo in una materia già sufficientemente caotica per suo perché questo regolamento ha una prima parte di definizione di indici che attualmente non sono previsti nel regolamento edilizio esistente e quindi non possono avere previsioni legate a questi indici nel piano regolatore quindi entreremmo in un possibile conflitto di impossibile risoluzione a prezzi altissimi per l'ente e per i cittadini di conseguenza così come sto dicendo adesso questa posizione noi l'abbiamo anche espressa al sindaco anche perché abbiamo avuto modo in via indiretta diciamo di un confronto con l'assessore stesso regionale che nell'illustrare a comuni più grandi più importanti dei nostri questa possibilità di proroga la proposta di delibera relativa alla proroga a domanda precisa su quale fosse la cautela e quindi la certezza da parte dei comuni di poter accedere alla proroga senza conseguenze cioè al riparo ad ogni rischio normativo la risposta è stata e meglio non abbiamo chiesto precisazione al ministero per timore delle risposte di conseguenza è chiaro che si può pensare come si vuole su tutto l'articolato di questo regolamento edilizio ma la situazione secondo me è a un vicolo cieco da questo punto di vista non di meno noi come gruppo pur non potendo essere presenti per gli orari soprattutto nell'ultima sessione della commissione urbanistica alla discussione sul regolamento abbiamo nei tempi che c'era possibile analizzato questo regolamento e proposto delle modifiche alcune delle quali ho visto nel deliberato nell'allegato alla delibera di oggi sono state accolte in modo parziale o totale a seconda dei casi c'erano diciamo soltanto quelle di tipo più tecnico alcune di queste altre invece non sono state considerate di conseguenza io qui ho sentito da parte del sindaco un'apertura a dire adesso abbiamo dei tempi mi corregga se sbaglio non vorrei interpretare nel modo non corretto ma il sindaco in sostanza ha detto adesso come dicevo io prima non possiamo che non andare all'approvazione di questo regolamento perché i tempi sono stretti apro un inciso tra l'altro uno dei dubbi dell'interpretazione era che i termini non fossero semplicemente l'approvazione da parte del consiglio del regolamento ma la pubblicazione sul bur perché il riferimento all'articolato della legge del 1999 parla di effettività dell'adozione del regolamento su pubblicazione quindi problemi su problemi chiudo questa parentesi però dall'altra parte c'è l'apertura almeno nei confronti di chi immagino abbia portato delle proposte con l'occasione di modifica del regolamento edilizio per discutere queste proposte nella sede della commissione e fare un lavoro con calma di considerazione politica e tecnica in modo da lavorare su queste proposte e portare eventuali ulteriori modifiche nei tempi tecnici più sensati più razionali non non molto distanti da oggi in modo da completare diciamo il lavoro che si è svolto nelle settimane precedenti questo perché il regolamento edilizio l'approvazione del nuovo regolamento edilizio non sia semplicemente diciamo un passaggio amministrativo e obbligato come abbiamo descritto adesso ma che l'occasione porti a riconsiderazione di determinate tematiche contenute nel regolamento edilizio da questo punto di vista io chiedo se così sia e se quindi diciamo le proposte che abbiamo portato non solo le nostre ovviamente ci sia l'impegno di portarle in discussione in commissione nei tempi più razionali possibili e di esaminarli in modo da poter fare un ulteriore passaggio dopodiché diciamo potrò esprimere la mia intenzione di voto in modo più compiuto grazie grazie al consigliere all'asia consigliere ferrero prego grazie presidente grazie grazie signor sindaco dunque stasera siamo qui per discutere questa proposta di deliberazione riguardante l'approvazione del regolamento edilizio comunale che se approvato va a sostituire quella attualmente in vigore approvato nel lontano 2007 e che è sottoposto a n modifiche nel tempo sia con delibere di consiglio comunale che altre della giunta regionale giungerebbe oggi al capolinea è stata spiegata e ripercorsa diciamo la genesi di questo nuovo regolamento dove è partito da chi è partito e dove è arrivato quindi non sto a ripetere credo però utile prima di entrare un pochino nel merito precisare che la commissione urbanistica all'unanimità dei presenti ha espresso parere favorevole a procedere e sottoporre ad approvazione del consiglio entro la data prevista del 3 luglio procedere a questa al consiglio a questa proposta di nuovo regolamento anche a fronte della volontà espressa dalla giunta regionale di disporre di una proroga di tale tempo permettendo così approvandolo adesso l'entrata in vigore della parte seconda dello stesso che all'articolo 137 prevede una norma transitoria che consente la definizione di parametri urbanistici contenuti nei regolamenti edilizzi del piano regolatore vigente e validi fino all'approvazione di un nuovo piano regolatore o variante generale dello stesso quindi direi che questa approvazione in questo tempo è una tutela di mantenimento del presente che andiamo ad approvare che potrebbe potrebbe altrimenti se non approvato entro il termine previsto del 3 luglio subire anche variazioni durante il tempo della proroga nel senso che durante della proroga venissero norme generali più stringenti chi ha una situazione in atto approvata in qualche modo se ne dovrà tenere conto chi non ce l'ha non potrà che adeguarsi al nuovo quindi credo che sia una che si sia comportata in commissione mi auguro anche in consiglio con un'autotutela quasi di garantista e cautelativa che comunque non preclude e prevede che in qualunque momento di apportare variazioni che si ritenessero opportune al regolamento non è che approvato questo così resta lo si può cambiare secondo esigenze manifeste e mi pare mi fa piacere che questa presa di posizione da parte della della commissione mi auguro del consiglio sia già stata anche espressa da altro consigliere che mi ha preceduto che approvi questo questo comportamento questo è un regolamento corposo e complesso elaborato dai tecnici dello studio Mellano lo stesso che ha steso l'attuale piano regolatore in collaborazione con la ripartizione urbanistica che ringrazio veramente entrambi per le norme mole di lavoro svolto e che ha previsto questo la trasposizione del regolamento attualmente in vigore all'interno di questa seconda parte del nuovo introducendo integrazioni per le parti non previste da quella attuale in vigore si tratta di 137 articoli 44 nella prima parte diciamo quelle delle norme generali di fatto non modificabili eccetto un paio di articoli il 27 e il 30 che non sto a andare a dettagliare nel merito di che si tratta poi quindi 44 93 articoli della seconda parte sui quali si è lavorato in commissione sono stati di fatto analizzati tutti l'ufficio ha evidenziato le modifiche che aveva già introdotto proposto e di fatto introdotto sono state poi presentate circa non sto non garantisco sul numero esatto 50 osservazioni un primo gruppo presentato da 27 tecnici portatori di esperienza diretta un secondo gruppo di un singolo 5 osservazioni un terzo gruppo da parte di un gruppo consigliare di 33 osservazioni tutte analizzate e concluse con un parere di 10 sono state accolte 12 non accolte 2 parzialmente accolte una da approfondire riguardante una formulazione dell'articolo 102 circa l'obbligatorietà della predisposizione all'allaccio per l'installazione di infrastrutture elettriche di ricarica dei veicoli su questo punto che è stato appuntato da approfondire in commissione la ripartizione urbanistica ha approfondito bene l'argomento ed è giunta ad una nuova formulazione che pur dicendo sostanzialmente la stessa cosa ne prevede una nuova formulazione molto più di facile lettura e di interpretazione nel senso proposto dall'osservante credo che questa poi sarà in un qualche modo allegata o consegnata a tutti tutte le motivazioni di accettazione non accettazione o parziale accettazione credo verranno poi segnalate nel verbale della della riunione in modo che tutti possano prenderne atto sia dell'osservazione che della risposta credo che si debba un sincero anche ringraziamento agli osservanti nel senso che hanno messo in evidenza situazioni puntuali che potrebbero hanno già permesso in quanto parecchie sono state accolte e potrebbero anche perché no in futuro portare ad ulteriore lavoro di approfondimento e in un tempo da stabilire vedere se ci sia necessità di anche di una prima modifica poi di questo regolamento ringrazio tutti quelli che hanno lavorato il presidente di commissione stasera assente e dei vari commissari per il lavoro svolto per queste motivazioni a nome della maggioranza esprimo parere favolevole a questa proposta di deliberazione grazie grazie a lei consigliere Ferrero ha chiesto la parola il consigliere Marengo prego grazie presidente questo mio intervento coinvolge anche i colleghi Somaglia e Elena che purtroppo è assente questa sera perché abbiamo visto insieme questa posizione innanzitutto contraddico il sindaco nel senso che se è vero che questo regolamento non sono le tavole della legge ma la prima parte lo è sostanzialmente perché effettivamente c'è poco da poter andare a variare però effettivamente pur con così poco tempo a disposizione le osservazioni che sono arrivate le discussioni che abbiamo fatto in commissione urbanistica mi scuso l'ultima per un impegno di lavoro non sono riuscito ad essere presente ma appunto fino a quando è stato anche presente il consigliere Elena poi mi ha relazionato su quanto è stato detto ho notato comunque in tutti una volontà di collaborazione sia da parte dei commissari da parte dei tecnici ne approfitto per ringraziare gli uffici l'architettore nero l'ingegnere saravoggetti che ci ha dato una grossissima mano anche per noi che non essendo del mestiere abbiamo bisogno di una guida in più ma a volte per capire le cose effettivamente la seconda parte abbiamo visto nella prima commissione urbanistica si sovrapponeva molto bene con altri regolamenti comunali quindi effettivamente molto lavoro poteva già essere svolto confidiamo naturalmente che nelle prossime sedute della commissione si possano verificare eventualmente altre osservazioni ma così come c'è stata una buona volontà percepita negli primi incontri sono certo che la cosa potrà continuare quindi in questo momento esprimo parere favorevole a nome anche del consigliere Somaglia e anche se assente del consigliere Elena quindi voteremo favorevolmente il regolamento questa sera grazie grazie a lei consigliere a proposito di incubature non vedo indici alzati se non quelli prego consigliere signor sindaco in quanto consigliere anche votante allora credo che intanto ringrazio degli interventi e della collaborazione che c'è stata del lavoro non sempre le cose fatte in fretta sono negative direi che si è scelto su un principio di approfondimento di volontà di approfondimento il la scelta di di esaminare puntualmente ogni aspetto non credo che caschi il mondo se in una prossima commissione urbanistica riprendiamo eventualmente alcune questioni che poneva il consigliere all'asia per approfondirle e magari avere alcuni alcune indicazioni che altra cosa è attraverso una lettura altra cosa è attraverso una credo che il regolamento comunale è uno strumento ad uso di tutti ed è sarebbe auspicabile e molto positivo che fosse votato unanimemente perché come noto è un documento di interesse di tutta la comunità quindi è un elemento poi ognuno può avere delle proprie perplessità su singoli aspetti ma complessivamente è un documento che è di necessità per tutti e lo dico soprattutto per quelli che ovviamente non partecipano alla commissione urbanistica e non hanno magari così pratica su questo argomento che è piuttosto tecnico piuttosto complesso io mi sono posta dall'inizio quando ho cominciato a discutere con l'architettore in nero e lo studio nell'architettore dello studio mellano mi sono posta il problema di che cosa poteva succedere nel caso in cui noi non avessimo approvato perché avendo telefonato in regione provando ad approfondire a livello nazionale non mi convinceva affatto forse anche alla luce di qualche breve esperienza regionale non mi convinceva affatto e mi preoccupava moltissimo l'idea di non portare il regolamento in approvazione e il trovarsi il 4 di luglio con operatori con uffici che avevano delle incertezze applicative che già molte volte l'interpretazione delle norme è di grande complessità se poi aggiungiamo questioni sulle quali non abbiamo un basamento certo da cui partire questo mi preoccupava molto questo è il motivo per il quale anche lavorando in maniera molto a tappe forzate siamo arrivati a porre in approvazione grazie al sindaco aveva chiesto la parola il consigliere Panero prego grazie presidente allora ci troviamo a parlare di questo argomento questa sera per l'ennesima volta con i tempi molto stretti questo argomento è stato trattato nella prima commissione urbanistica a fine maggio per la precisione il 23 maggio 2018 subito c'è stato detto che andava approvato entro il 3 luglio altrimenti entrava in vigore quello tipo regionale che deriva da quello nazionale sottolineo come l'ennesima volta i tempi che ci sono imposti per trattare di un argomento così importante e complesso sono troppo stretti per poter esaminare in modo approfondito e puntuale queste tematiche così tecniche e difficili sottolineo anche che non è questi tempi stetti non sono dovuti al Comune di Bra ci mancherebbe altro ci sono stati imposti che il Comune di Bra in questo caso non ha assolutamente nessuna responsabilità sul fatto che ci troviamo con questi tempi così stretti per approvare questa modifica questi tempi così stretti che sono stati anche compresi dalla Regione Piemonte che ha appunto approvato una proroga e a questo faccio riferimento come il 21 giugno 2018 il Consiglio regionale ha approvato la delibera che proroga di 150 giorni i termini per l'approvazione del nuovo regolamento edilizio in scadenza il 3 luglio e qui faccio miele parole perché mi ci ritrovo completamente e ringrazio per l'interessamento per il consigliere regionale Franco Graglia che dice ho appoggiato questa proposta che vuole agevolare i sindaci che erano in difficoltà sui tempi tanto più che questi obblighi di revisione dei regolamenti è l'ennesimo esempio di riforma di cui non sentivamo la necessità specie in una ragione come il Piemonte che aveva già un regolamento edilizio tipo adottato da quasi tutti i comuni ma Roma hanno deciso che deve esserci un regolamento unico valida in tutta Italia la questione è di rilevante importanza perché nel comune che non avessero approvato il nuovo testo entro il 3 luglio sarebbe diventato operativo quello deciso dal consiglio regionale senza gli adeguamenti le normative previste nei singoli piani regolatori dovevamo evitare questo caos continuano le parole di Tigraglia la gestione dell'urbanistica che è già così complessa per funzionari e sindaci ci mancava solo che fosse terremotate le norme applicative delle previsioni normative dei PRGC rimane il dubbio concreto che questa prologa possa essere illegittima ma fino a quando non viene annullata è sicuramente efficace questo comune ha deciso di non avvalersi di questa prologa ritenendosi pronto per approvare le modifiche al regolamento scelta che possiamo dire di condividere in pieno ma certamente un po' di tempo in più ma penso che questo possiamo condividerlo tutti un po' di tempo in più sarebbe stato utile per tutti per affrontare l'argomento condividiamo le ragioni espresse per le ragioni entrerebbe in vigore quello diciamo imposto regionale che poi ricopre quello diciamo nazionale con le problematiche annesse dal punto di vista un po' più tecnico possiamo dire che questo regolamento come già stato spiegato si può dividere in due capi nel capo primo che entrerà solo in vigore con una variante strutturale del piano regolatore ma a questo proposito mi chiedo e sottolineo con questa mia perplessità uno stato di confusione generale mi chiedo come sia possibile che le regioni Liguria Puglia Marche e Umbria abbiano invece modificato apportato delle modifiche anche a questa parte in particolare l'articolo 30 ne cito uno quello un po' controverso delle distanze ritornando a delle distanze ortogonali e non a quelle diciamo radiali come l'articolo come l'articolo cita tutto questo per sottolineare un po' di confusione questi regolamenti che sono arrivati lì alto hanno creato un po' di confusione un po' a tutti invece la parte seconda è quella diciamo che entra in vigore subito a questo proposito la cosa positiva di tutto questo aspetto è stato l'interessamento che io e il consigliere Marco Elena abbiamo potuto riscontrare sull'argomento come facoltà di noi consiglieri di avvalerci di tecnici si è creato quasi spontaneamente un gruppo di lavoro che ha compreso un notevole numero di professionisti che operano nel settore circa una trentina in rappresentanza di studi tecnici anche formati da più tecnici questo per dire una buona percentuale di tecnici che operano nel settore e in particolare nel comune di Bra questo gruppo di lavoro ha elaborato un documento sempre nello spirito come è stato già riportato nelle varie commissioni urbanistiche di assoluta collaborazione e confronto questo documento poi è stato depositato come oggetto osservazione nella revisione del regolamento edilizio comunale e toccava parecchi aspetti alcuni di questi erano semplicemente delle richieste di spiegazioni su vari articoli appunto per ritornare al criterio che ho espresso prima quello che un po' di confusione barra paura queste modifiche che ci sono arrivate calate dall'alto hanno creato purtroppo per alcune di queste osservazioni non sono state accolte ma perché appunto quella parte lì era cosiddetta non modificabile alcuni altri aspetti ne cito solo alcuni velocissimamente l'articolo 86 dei passi carrai che porta a un massimo di passo carrai o di larghezza 6 metri ed elimina la distanza tra due passi carrai che qualche problema poteva dare l'articolo 89 che parla delle recinzioni che diciamoci allinea a un'altezza massima delle recinzioni come da codice civile di altezza 3 metri l'articolo 107 che ne abbiamo discusso tanto in commissione chi c'è se lo ricorderà che è quella che l'altezza minima di un metro in dieci per le ringhiere questo aspetto preoccupava alcuni operatori specialmente per il pregresso e in seguito a questo è stata aggiunta la dicitura appunto al comma di quell'articolo successivo che solo quelli successivamente alla data di approvazione del presente regolamento rientravano in questa normativa quelle invece antecedentemente no questo per dire che in commissione è stato fatto anche con tempi stretti un buon lavoro un lavoro approfondito un lavoro che ha coinvolto parecchie persone nello spirito di collaborazione soprattutto per quei rapporti che in questo momento non nego sono un po' traumatici non so che termine quale sia il termine più corretto da utilizzare e premetto anche probabilmente per colpa di nessuno degli interpreti fra l'ufficio urbanistico e i tecnici diciamo che operano nel settore perché adesso l'allegato è più importante di ogni di ogni no ma dei permessi urbanistici in questo momento non sono tanto le tavole grafiche quanto i pareri legali allegati questo perché dico non è una colpa che può essere imputata né a questa amministrazione né assolutamente all'ufficio urbanistico tanto meno ai tecnici probabilmente le norme nel settore in questo momento hanno delle lacune se vogliamo chiamarle così delle una possibilità di essere interpretate che purtroppo fanno solo la fortuna degli studi legali a questo proposito appunto tengo a sottolineare ancora l'aspetto che lo spirito di collaborazione che ho riscontrato per questo argomento e che ho sempre riscontrato da parte dell'ufficio urbanistico possa essere un modo per operare ottimo per il futuro specialmente in questo settore così controverso e complicato che però queste modifiche ci sono arrivate dall'alto sicuramente non aiutano a migliorare come ultima non è una richiesta ma diciamo come ultimo punto tenevo a sottolineare come nella proposta di legge regionale 292 del 21 giugno all'articolo 9 e appunto qui richiamo di nuovo una modifica richiesta dalla regione Piemonte l'articolo cito solo una parte le parole tale deliberazione diventa esecutiva assumendo efficacia con la pubblicazione ed estratto sul bollettino ufficiale della regione Piemonte sono sostituite da tale deliberazione diventi esecutiva assumendo efficacia con la pubblicazione per estratto sull'albo pretorio online del comune questo faccio riferimento per compiere tutti gli addempimenti di legge ma non è che ve lo sto è una sottolineatura che voglio fare sicuramente questa amministrazione lo sa già e non devo arrivare io a dirglielo venga subito pubblicato nell'albo pretorio prima del 3 luglio per essere certi di aver adempiuto tutte le prescrizioni di legge e questo provvedimento possa essere efficace come specificato dalla norma concludo ringraziando anch'io lo studio mellano l'ufficio urbanistico in maniera particolare l'architetto bogetti che è qui presente che ha fatto veramente un lavoro di collage anche utilizzando vari colori e varie definizioni perché sicuramente non era facile capire qual era il testo in approvazione qual era il testo che poteva essere modificato qual era il testo che in questo momento era in vigore quindi per questo la ringrazio per il suo lavoro grazie grazie a lei consigliere allora se non ci sono altri interventi e se il sindaco ah consigliere all'asia prego grazie grazie presidente ma allora c'erano alcune c'erano alcuni spunti interessanti degli interventi che mi hanno preceduto una in particolare la questione questa è una questione di principio però mi piace sottolinearla perché nella mia vita professionale la incontro tutti i giorni la questione del fatto che ci sia una regolamentazione uniforme e calata dall'alto e che tenda a uniformare lo stesso ambito nel territorio a livello di territorio nazionale ecco questo di per sé non è una cosa negativa anzi perché uno dei più grossi problemi che ha un professionista oggi ad operare è che deve guardare direttive comunitarie chiedo scusa regolamenti comunitari leggi che accolgono direttive comunitarie leggi nazionali leggi regionali regolamenti comunali e deve sperare che nell'attività che deve svolgere non ci sia contraddizione all'interno di tutti questi di questa sovrapposizione gerarchica di norme e soprattutto cosa praticamente impossibile si intenda dire le stesse cose utilizzando gli stessi termini sembrerà banale ma il problema è che ciò che viene indicato con un termine all'interno delle stesse leggi nazionali si indicano stesse cose in modi diversi o cose diverse con lo stesso nome quindi l'intento di cercare arrivare a un'uniformità a livello di definizione così come questo regolamento edilizio presuppone cioè la parte di cui stiamo parlando quella che qualcuno ha definito intoccabile o qualcosa del genere le tavole della legge è riferita alla parte di definizione di indici e di parametri e questi indici parametri io non me li ritrovo diversi da regione a regione ma mi incomincerò a ritrovarmi uguali dovunque io operi spesso parliamo di libertà di movimento nell'ambito delle professioni nell'ambito delle attività professionali ma noi abbiamo dei grossi problemi a muoverci da regione a regione dal punto di vista professionale proprio per la differenza interpretativa delle norme nazionali e la differenza tra le norme regionali chiudo questo 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 inciso ora per quanto riguarda i punti invece che riguardano il nostro il nostro regolamento noi abbiamo portato delle proposte di modifica ne cito alcune che riteniamo interessanti e alcune di queste riteniamo che sia bene anche considerarle oggi molto semplici allora ad esempio abbiamo detto che la prima parte del regolamento edilizio viene noi approviamo in toto il regolamento edilizio ma la prima parte avrà una entrata in vigore differita perché è una parte che entra in vigore solo con l'approvazione di una variante generale del piano regolatore non può essere così perché altrimenti ci sarebbe assincronismo assincronia tra le due tra le due norme e il problema è che questo io lo scopro al fondo all'ultimo articolo che qualcuno ha citato prima per cui noi suggerivamo di mettere in premessa al regolamento questa indicazione cioè spiegare bene in testa regolamento che cosa è effettivamente in vigore e che cosa effettivamente non è in vigore con questo regolamento edilizio perché l'altro rimarrà solo allegato al regolamento nuovo se ho visto bene noi pensiamo anche che per quanto riguarda i riferimenti normativi altro tasto dolente sempre di quando si lavora sui regolamenti debbano essere il meno possibile riportati all'interno dei regolamenti comunali perché è difficile poi aggiornamento ci sono n pagine nel regolamento di riferimenti normativi pensiamo che sia più corretto fare un rimando ai link dei siti dei vari enti di competenza per il rimando a queste norme in modo che ci sia un aggiornamento più automatico e non richieda un aggiornamento continuo da parte nostra da parte dell'ente nutravamo dei dubbi sulla modifica inserita all'articolo 30 per quanto riguarda la definizione delle distanze perché gli uffici hanno pensato di di porre non una definizione di limiti ma una possibilità di distanza per quanto riguarda i locali interrati noi lo riteniamo un po' pericoloso penso che questo possa essere oggetto di discussione nelle prossime sedute ci piacerebbe affrontare perché il nuovo regolamento edilizio lo propone affrontare così come abbiamo già fatto in parte nella commissione ambiente gli aspetti che riguardano gli impatti ambientali gli impatti energetici degli interventi con dei riferimenti inseriti all'interno del regolamento edilizio pensavamo anche che fosse una buona occasione in modo molto semplice normare effettivamente le manutenzioni delle aree porticate queste sono normate parzialmente nel regolamento di igiene dove si prevede la pulizia obbligatoria a carico dei proprietari è un argomento che avevamo già affrontato parecchio tempo fa e pensiamo che questa sia l'occasione giusta per poterla affrontare secondo noi poi ci sono parti del regolamento nella struttura ho chiuso faccio la dichiarazione di voto così non tutt'uno ha tutto quello che serve ci sono parti del regolamento articolo del regolamento nazionale ad esempio quelle riferite se ricordo bene agli spazi pubblici aree verdi che non hanno visto non avendo previsione il nostro regolamento edilizio non hanno visto inserimenti di parti specifiche in questo regolamento pensiamo che dei ragionamenti in tal senso vadano fatti a proposito della complessità della gerarchia normativa un caso esemplare è la normativa in termini scusate in ambito di efficienza energetica non sto a spiegare i dettagli ma una legge un decreto ministeriale del 2015 ha apportato delle modifiche a livello nazionale portando le regioni ad abrogare le leggi regionali in materia preesistenti al 2015 la regione Piemonte aveva una legge la legge 13 del 2007 a riguardo sulla base di questa legge sono state emanate delle delibere di giunta regionali applicative di queste disposizioni previste dalla legge regionale la legge regionale è stata abrogata in virtù dell'entrata in vigore del DM del 2015 ma la regione ha detto le DGR sono ancora valide ora questo lo dico perché nel regolamento edilizio sono riportati alcuni cenni ancora sulla legge regionale che è stata abrogata e sulle DGR che la regione dice che sono ancora in vigore probabilmente non è così e secondo noi una riflessione e anche un atto tecnico di lavoro e anche di coraggio da parte del Comune potrebbe essere fatto per prendere atto di una situazione a livello di gerarchia della legislazione che non può non tenere conto che una legge regionale che supporta delle delibere sulla base delle quali sono state emesse delle delibere regionali siccome è stata abrogata fa cadere anche il deliberato conseguente non è così noi professionisti su questo ambito dobbiamo cercare di far quadrare i conti cercando di non dar torto a nessuno dei due dei due ambiti quello nazionale e quello regionale ma ma è un modo di lavorare che non ha molto senso e in cui e da questo punto di vista l'attività del Comune potrebbe essere preziosa per le professioni infine noi abbiamo portato delle proposte invece meno tecniche più prettamente politiche per quanto riguarda la formazione della Commissione di Lizia e della Commissione Paesaggistica nei termini che a nostro avviso andrebbero cambiate le modalità di formazione delle Commissioni di Lizia le Commissioni di Lizia è di tipo è una scusate e una Commissione che non è di formazione obbligatoria da parte dei Comuni quindi è una libera scelta noi pensiamo che questa libera scelta sia sensata quella che attualmente viene fatta cioè quella di istituire la Commissione di Lizia ma noi pensiamo che sia più corretto un metodo di formazione delle due Commissioni più aperto possibile non solo lasciata la decisione delle forze consigliari in campo ma che permetta una manifestazione di interesse pubblico pubblico pubblica attraverso gli ordini professionali e che gli enti delle Commissioni debbano semplicemente valutare i parametri che i candidati superino i parametri minimi di competenza richiesta e poi che la scelta così come accade ad esempio in altri casi mi viene in mente il Comune di Torino la scelta dei commissari avvenga se ci sono più candidati che posti disponibili per per sorteggio ora detto questo la cosa che in questo momento a me preme per la chiarezza e per lo scopo che ci siamo dati per quanto riguarda l'approvazione del regolamento edilizio è quello che nella premessa del regolamento edilizio ci sia questo cenno questa parte di testo che indichi chiaramente a chi va a leggere il testo il regolamento come quella prima parte di regolamento i primi 44 articoli pur facente parte del regolamento edilizio attuale non siano attuati in questo momento e ci sia invece rimando alle norme corrispondenti del regolamento edilizio precedente della legata adesso non mi ricordo più se sia B o A o quello che è questo per maggior chiarezza e per facilitare il lavoro di chi penso da domani debba guardare il regolamento edilizio debba lavorare sul regolamento edilizio per quanto riguarda la dichiarazione di voto ho colto la richiesta del sindaco di dire c'è un regolamento un regolamento che vale per tutta la cittadinanza come tutte le attività che d'altronde svolgiamo in consiglio e per cui mi auspico chiedo scusa un voto unanime io devo dire che non posso non posso chiedo scusa dare un voto contrario a questo regolamento edilizio edilizio per le motivazioni che ho detto in precedenza perché non penso che sia corretto mettere in pericolo un'attività così importante dell'ente e della cittadinanza di conseguenza ma ci sono molti punti di tipo tecnico e politico che non condividiamo per cui la nostra espressione di voto sarà quella di astensione grazie grazie a lei consigliere allora per quanto riguarda la la questione che lei ha avanzato dell'introduzione in premessa di questa dicitura io direi che bisognerebbe sentire il parere dei tecnici quindi se l'architetto Reinero prego un elemento eccessivo cioè tutti da domani quelli che operano nel settore sapranno che la prima parte del regolamento non si applica cioè tutti noi che lavoriamo in questo settore lo sappiamo perfettamente nel testo della delibera è specificato ritengo molto bene l'articolo 137 che la norma transitoria e le norme transitorie stanno sempre alla fine dice chiarissimo quello che avviene relativamente alla parte prima e alla parte seconda quindi io penso che il testo così come è formulato per il momento possa andare bene certo che se si rimette la mano a parti che richiedono precisazioni approfondimenti eccetera eccetera e se ci rendessimo conto che c'è all'interno dell'utenza della difficoltà a comprendere che la prima parte al momento non entra in vigore potremmo anche fare questa questa precisazione poi sia il consiglio a a decidere come ritiene per qualcuno comportarsi grazie la parola al sindaco io direi che il testo che abbiamo portato in discussione in commissione e portato questa sera in approvazione credo che sia un testo che vada bene che possa essere votato proprio prima ho dato la mia disponibilità ovviamente sentito il presidente della commissione ad andare ad approfondire questioni che i consiglieri hanno hanno posto direi che il testo che va in approvazione è quello previsto dalla delibera così come poi se valuteremo in sede di ulteriore approfondimento in commissione urbanistica l'esigenza di alcune modifiche queste piuttosto che altre le metteremo in evidenza ma lascerei la delibera così come grazie grazie al sindaco consigliere panero prego telegrafico anch'io per la nostra espressione di voto allora partiamo dal da un aspetto che noi stasera siamo qui chiamati ad approvare queste modifiche perché cambi poco il paradosso è questo noi stasera siamo qui chiamati a votare un documento delle modifiche un documento che in questo modo cambia poco se no entrerebbe in vigore l'altro e diciamo sarebbe stravolto il tutto siamo consapevoli del fatto che come qualsiasi regolamento di questo comune solo l'utilizzo solo i prossimi giorni solo nel futuro potremmo sapere quali sono le parti che tra virgolette vanno bene quelle che invece sono da modificare siamo aperti ovviamente come gruppo a partecipare a quante commissioni urbanistiche questa amministrazione riterrà opportuno convocare per parlare di questo argomento l'abbiamo messo in premessa che in questo momento la normativa urbanistica e il regolamento edilizio non può che farne parte ha delle problematiche che derivano da altre normative sovrastanti e che purtroppo è interpretato interpretabile e interpretabile però riteniamo non con qualche difficoltà c'è stato un incontro c'è stata una discussione se in questa in questa opportunità il nostro gruppo avesse espresso un voto di astensione o favorevole ma noi riteniamo che il lavoro che sia stato fatto sia stato fatto un ottimo lavoro premetto con questo non vuol dire che è tutto a posto signor sindaco lo sa ci siamo già incontrati con questo non vuol dire che i regolamenti urbanistici a 360 gradi della città di Bra vanno tutti bene ma in questo caso è stato fatto un buon lavoro e quindi come gruppo esprimeremo un voto favorevole facendo nostre gli impegni di essere presenti e l'impegno che c'è stato da parte dell'amministrazione di mettere mano a questo regolamento e di apportare le modifiche che si ritornano opportune grazie grazie a lei se non ci sono altri interventi i gruppi che hanno parlato hanno già anche espresso la dichiarazione di voto quindi se non ci sono interventi ulteriori io pongo in votazione questa delibera su cui si dovrà poi anche allora passiamo a segnalare la presenza siamo sempre 15 va bene possiamo votare ancora due persone devono votare va bene votazione chiusa la delibera è approvata con 13 voti favorevoli e due astenuti adesso passiamo all'immediata eseguibilità grazie a tutti Grazie. Votazione chiusa, 14 favorevoli e 1 astenuto. Grazie. Salutiamo l'architetto o ingegnere? L'architetto Bogetti, grazie, buon proseguimento di serata. Bene, proseguiamo. Siamo alla proposta numero 5, quarta variazione al bilancio di previsione 2018-2020, ratifica deliberazione dell'aggiunta comunale numero 77 del 15 maggio ultimo scorso. Illustra l'assessore Fogliato. Grazie Presidente. Parliamo della quarta variazione di bilancio. Richiamerei in questo momento le principali voci di uscita, di spesa e di entrata che caratterizzano questa variazione di bilancio. Parlando della spesa, ricorderei 7 mila euro per quanto riguarda il contributo della Fondazione Cassia di Risparmio di Torino, chiedo scusa, sul progetto Vivo Meglio che riguarda il tema della disabilità coinvolti in campo artistico, del volontariato civico e anche su alcuni momenti conviviali presso la nostra struttura di Lagueglia. Poi, altro cifro importante è il contributo della Fondazione Cassia di Risparmio di Cuneo di 27.822,20 per l'acquisto di auto elettrica e relativa a colonnina, ma questo progetto richiede anche un cofinanziamento del nostro ente, perciò nello stesso tempo abbiamo uno stanziamento di 17.527,78 per il cofinanziamento della suddetta spesa. Sempre da parte della ripartizione dei lavori pubblici, incremento di 26 mila euro per le spese del servizio a scombero neve, date le particolari nevicate che ci sono state nel passato inverno. Altra cifra, incremento di 19 mila euro per la francatura postale, questo per effetto dei numerosi avvisi di accertamenti imposti inviati nel periodo. L'ultima segnalazione, sempre per quanto riguarda le spese, 20 mila euro per un incarico professionale per l'adeguamento del piano regolatore. Passerei ora a richiamare due voci delle entrate, l'aumento di 43 mila euro per quanto riguarda le previsioni di entrata per l'addizionale comunale IRPEF e 35 mila euro per l'aumento delle previsioni di entrate per quanto riguarda la tasi. Grazie all'assessore che ha illustrato la delibera. Consigliere Somaglia, prego. Grazie Presidente. Io parto da una considerazione negativa su questa variazione di bilancio. Poi sappiamo che le variazioni sono sempre conseguenza di azioni o di gravi dispese che ci sono stati nella pratica amministrativa. L'incremento di 26 mila euro per delle spese di sgombro nevere, noi nella stagione invernale proprio in questa sala eravamo stati ampiamente critici sui ritardi di intervento che durante le fasi acute di precipitazioni nevose che ci hanno colpito nella stagione invernale, i ritardi di intervento erano stati da parte nostra e parlo anche a nome ovviamente del consigliere Elena che è assente e del consigliere Marengo, noi su questa partita eravamo stati decisamente critici. Però un aspetto che riguarda questa variazione, seppur consistente, che è quello che riguarda l'acquisizione di un'auto elettrica e l'approntamento della relativa colonnina ci porta ad esprimere un voto di astensione su questa variazione proprio perché diamo un'apertura di credito su questo argomento, da qualche parte bisogna incominciare sulla partita ecologica, qualcosa è stato fatto, questo passaggio lo riteniamo importante e lo riteniamo degno di nota anche se, ma ahimè, i prezzi delle auto elettriche sono ancora e temo lo saranno ancora per un po' di tempo importanti, onerosi, però questa parte della variazione ci porta ad esprimere il nostro voto di astensione. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Consigliere Allasia, prego. Grazie, Presidente. Allora, io su questa variazione di bilancio voglio partire dall'ultimo intervento del collega che mi ha preceduto riguardo la spesa per l'auto elettrica relativa a colonnina. Io invece sono piuttosto perplesso di questo tipo di intervento da questo tipo di intervento, penso che quei soldi vadano usati per altri interventi a favore della mobilità leggera e perché un'auto elettrica è un atto poco meno che simbolico e perché sinceramente ad esempio avevamo una grandissima occasione con l'appalto dei rifiuti precedente, quello che è in fase di scadenza in cui c'era la possibilità di avere, anzi era prescritto di avere dei mezzi elettrici che poi non abbiamo fatto acquistare all'appaltatore. È quello sì che sarebbe stato un intervento molto più rilevante che uno singolo auto elettrico. L'unico fatto positivo di questo tipo di intervento può essere la colonnina se posizionata in una posizione strategica e di utilizzo quindi pubblico, se invece fosse una colonnina riservata diciamo al nostro mezzo, allora secondo me questi sono soldi sprecati. Per quanto riguarda lo sgombero 9, non posso che riprendere anche le parole e l'interrogazione fatta alla fine dell'anno scorso perché alla fine ci sono state due nevicate e sinceramente non riesco a vedere il motivo di aggravi di costi sulla base di una preventivazione del piano neve già sufficientemente alta e anche più alta di comuni a noi vicini, soprattutto perché sono aumenti a fronte di situazioni che abbiamo testimoniato di mancanza totale di attività dello sgombero neve soprattutto per quanto riguarda i marciapiedi pubblici, gli spazi pubblici, gli attraversamenti pedonali dove per parecchio tempo condizioni di pericolo per i pedoni sono rimaste intatte, intonse senza alcun intervento. Invece qui c'è una richiesta di spiegare, invece il passaggio successivo su una voce non mi è chiara, quella di adeguamento del piano regolatore, i 20 mila euro per la consulenza dello studio tecnico perché non è esplicitato a quale adeguamento si riferisca e quindi volevo capire che tipo di voce era, se per caso questa voce includeva anche la modifica al nuovo regolamento edilizio che abbiamo discusso poco fa, oppure no, o se invece fosse tutta un'altra partita. Grazie La parola adesso all'assessore vice sindaco Borrelli per rispondere a una prima parte delle questioni, prego Sì, io intervengo rispetto alla questione legata all'acquisto e al bando che ci ha portato, che ci porterà all'acquisto di un'auto elettrica e all'installazione in città di una colonnina per la ricarica delle auto elettriche. Io ritengo che da questo punto di vista saranno piccoli segnali, saranno anche segnali onerosi, ma credo che un'amministrazione pubblica debba in qualche modo per primo dare il segnale e l'indirizzo rispetto a queste tematiche. Tra l'altro, proprio su indicazione del consigliere all'Asia, abbiamo approvato qualche mese fa una mozione, se ricordo bene una mozione, che andava proprio in questa logica nel dare un segnale di attenzione a chi investiva rispetto all'acquisto di auto elettriche, rispetto all'acquisto di auto di altra formula, dando il parcheggio gratuito nella nostra città e quindi era un piccolo segnale anche quello, ma assolutamente fondamentale di indirizzo e di indicazione precisa di come questa amministrazione e questo consiglio, perché era stato approvato all'unanimità, intende muoversi su un tema così importante come quello della mobilità sostenibile. Per quanto riguarda l'oggetto e il costo dell'operazione auto elettrica e colonnina, noi avevamo partecipato a un bando che era il secondo anno che veniva emanato dalla fondazione CRC e prevedeva un investimento e una copertura dei costi iniziale pari a 11 mila euro, anziché 17 mila come quelli che vengono messi in questo momento a copertura della differenza. Questo perché successivamente alla comunicazione da parte della fondazione CRC dell'avvenuto finanziamento di 27 mila euro c'era stato prospettato la possibilità e la necessità per ovvie ragioni di comodità anche nostre di aggregarci al Comune di Torino che è l'ente che emanerà il bando sia per l'acquisto dell'auto che per l'installazione della colonnina. Questo però prevedeva ovviamente l'allineamento dei costi a quello che era il bando precedente, quindi anche magari all'acquisto di un'auto che probabilmente poteva avere un costo minore ma che avrebbe dovuto rivedere l'intero bando d'acquisto e quindi si è andato in questa direzione e questo è l'aumento del costo in parte. In parte per una diminuzione del contributo da parte della fondazione CRC e in parte perché si è passati dalla fornitura di un veicolo elettrico con batteria a noleggio ma all'acquisto di un veicolo con batteria in proprietà, quindi questo diminuerà l'incidenza annuale del costo per la spesa corrente per gli anni a seguire e quindi si guadagna un aspetto che sicuramente avrebbe avuto un'incidenza sul costo della manutenzione degli anni successivi dell'auto. Riteniamo che sia un elemento importante perché va anche nella direzione dell'adeguamento dei mezzi a disposizione dell'amministrazione comunale del Comune di Bra rispetto alla flotta dei mezzi comunali. È un primo piccolo segnale che stiamo dando e che vogliamo continuare a dare per arrivare magari con una programmazione e dei tempi sicuramente più lunghi perché questo tipo di iniziative hanno dei costi elevati a magari avere in futuro una flotta mezzi completamente elettrica e superare l'attuale flotta mezzi. Grazie. Grazie al Vice Sindaco. Risponde adesso il Sindaco invece per la questione di quella cifra di cui si è parlato prima. Prego. Allora, a proposito dell'aumento della cifra relativa ai conferimenti di incarichi per quanto riguarda l'urbanistica, voglio ricordare che in questo anno sono previste una serie di variantine che passano per attività produttive, quelle permesse dalla normativa vigente, ad esempio una riguarda l'ARPA è quasi ultimata, un'altra riguarda un'altra azienda, una è passata nel precedente Consiglio Comunale, per quanto riguarda l'esame del regolamento. Ci sono diversi incarichi e la stessa dovremmo predisporre una variantina che ci è stata richiesta dalla Regione Piemonte e dall'AS per quanto riguarda l'ospedale, la destinazione dell'ospedale, fermo restando la parte storica destinata alle attività ospedaliere e di ambulatorio e quindi questo è il motivo per il quale abbiamo fatto questa integrazione. Grazie al Sindaco. Per quanto riguarda invece il Piano Neve risponde l'assessore Messa. Siccome già avevamo risposto durante le interrogazioni noi riteniamo che il Piano Neve abbia svolto correttamente il suo servizio. Se problemi ci sono stati hanno riguardato i casi di gelicidio, problemi che naturalmente non hanno interessato solo la città di Bra, ma in almeno due occasioni hanno, tra virgolette, paralizzato il Nord Italia. Ricordo che nella cifra che viene messa a budget per quanto riguarda il Piano Neve non si interviene esclusivamente in quelle che sono state definite le due nevicate, ma nel Piano Neve sono comprese anche tutte le attività di spargimento sabbia e sale durante i fenomeni gelivi, fenomeno che durante l'inverno passato, per chi lo ricorderà, sono avvenute in diverse nottate. Grazie. Grazie all'assessore. Concegliero all'Asia, prego. Grazie Presidente. Ne approfitterò per fare la mia dichiarazione di voto. Ho preso atto delle risposte per quanto riguarda l'auto elettrica. Sì, il problema è che il costo della conversione è un costo molto alto e quindi va bilanciato su un piatto benefici ambientali ed economici e costi. Ora, a mio avviso, in questa fase questi soldi potrebbero essere utilizzati per attività di incentivazione della mobilità sostenibile in modo più proficuo. purtroppo siamo usciti poco tempo fa, adesso spero che le cose siano cambiate, ad esempio da un altro atto simbolico che era quello delle bici elettriche, che poi alla fine sono state parcheggiate per parecchio tempo in un angolo, hanno fatto pochissimi chilometri, non sono state sfruttate e quindi un costo di investimento che non ha dato i suoi frutti. Devo dire che passaggi pedonali, porzioni, anche prima un collega lo ricordava per un caso specifico, porzioni di piste ciclabili, il percorso pedonale ciclabile, ad esempio di Madonna Fiori stesso, che adesso ha una recinzione che in parte è crollata, necessitano di interventi di manutenzione che vengono fatti raramente e sicuramente la messa in sicurezza di questi sistemi incentiverebbe, a mio avviso, con un fattore moltiplicativo molto più alto, l'utilizzo di mezzi di mobilità dolce piuttosto che l'acquisto di una singola auto elettrica. Per quanto riguarda il Piano Neve, prendo atto della vostra opinione, ritengo invece che i fenomeni cosiddetti gelivi non siano stati poi nulla di straordinario quest'anno, l'impegno di spesa era già molto alto e i risultati per quanto riguarda la mobilità pedonale sono stati pessimi. Per quanto riguarda la voce di adeguamento per le consulenze esterne. Ringrazio il Sindaco per avermi chiarito che in sostanza parliamo di una voce che coprirà già previsioni per varianti semplificate, mi pare si chiami, adesso non so se mi ricordo esattamente il nome, o meno, io ho su questa voce ho anche delle perplessità perché, a mio avviso, le previsioni semplificate che abbiamo visto, mi pare due fino ad oggi, e anche la discussione che abbiamo avuto prima sul regolamento edilizio, secondo me, potevano essere queste attività, potevano essere attività che si potevano mantenere all'interno, nella quasi totalità, e avere solo un riscontro di tipo consulenziale, invece l'entità del lavoro qui è opposta per cui stiamo dando, ad esempio come nel caso del regolamento edilizio, tutto l'impalcato del lavoro ha una ditta esterna e quindi gli uffici fanno il lavoro di rifinitura finale. Io penso che gli uffici e le risorse interne possano essere valorizzate di più in questo ambito e possano svolgere questi compiti che sono assegnati, per cui sono anche contrario all'aumento a questo adeguamento di voce di spesa per quanto riguarda le consulenze esterne, che a parte un picco nel 2014, guardavo per curiosità, un picco molto alto nel 2014, erano scese negli ultimi anni, adesso stanno pian piano risalendo e quindi ci terrei un occhio particolare di attenzione, perché secondo me rischiamo di ricorrere troppo a consulenze esterne, invece di mantenere know e attività all'interno dei nostri uffici. Grazie. Mi scusi, Consigliere, aveva permesso alla dichiarazione di voto? Scusa, Presidente, scusi. Per le ragioni che ho citato, la mia dichiarazione di voto è per un voto contrario alla proposta di delibera. Grazie. Grazie, Consigliere Somaglia, prego. Grazie, Presidente. Sarò brevissimo solo per confermare ovviamente la nostra opinione sulla solerzia di intervento per quanto riguarda il piano neve, sulla contrarietà di questo stanziamento e approfitto per complimentarmi con una nota azienda locale che, visto che abbiamo parlato di auto elettriche, che recentemente ha fatto un investimento importante presso la propria struttura e che ha messo a disposizione delle auto elettriche che sicuramente circoleranno nella nostra città, visto la localizzazione ai margini della nostra città. Grazie. Grazie. Consigliere Tripodi, prego. Grazie, Presidente. Veramente sintetico. Per quanto ci riguarda questa variazione di bilancio, voteremo, faremo un voto di astensione. Per il semplice, appunto, come argomentazione alla nostra astensione, quella che è indubbio il fatto che il piano neve sia stato qualcosa di, riterrei dire, quasi vicino a qualcosa di scandaloso, pensare che ancora per avere quei risultati, per quel servizio e già i soldi impegnati per quel servizio erano già abbastanza. Per avere quei risultati, secondo me, dobbiamo rivedere in futuro qualcosina. Però l'astensione deriva dal fatto, appunto, che pensiamo che sia seriamente importante dotare la nostra città di colonnine per il rifornimento delle auto elettriche. Perché dietro una macchina elettrica, mi aggancio a quello che diceva il Vice-Sindaco, è vero che sono auto costose, ma sono auto che in altri paesi, soprattutto all'estero, vengono utilizzate e sono già molto più frequentemente diffuse rispetto a quello che è il nostro paese. quindi, visto e considerata che il turismo, anche non solo il turismo neogastronomico, religioso e quant'altro, proviene da, anche sempre di più nei nostri territori, da paesi che sono fuori dall'Italia, che sono paesi, la vicina Svizzera, tedeschi e quant'altro, avere quella tipologia di colonnine e quindi dar la possibilità in un paese in cui questa tipologia di mobilità, questo mezzo di trasporto è più diffuso, è importante e può essere anche, diciamo, un fattore che possa far pensare ad un turista di dire, mi fermo magari a Bra per alloggiare, e per poi continuare a fare il mio percorso nelle Langhe, nel Roero e anche nella nostra città. Quindi, forse avremmo utilizzato tutta la spesa per l'acquisto di colonnine, non sarebbe stato forse più opportuno da parte nostra utilizzare tutti i soldi per l'inserimento di altre colonnine per tutta la città, anche perché non siamo a conoscenza di dove verrà posizionata questa colonnina, e proprio per dare un senso di copertura a livello, anche un pochettino più forte, del nostro territorio, per questa tipologia di mobilità che, come ripeto, è poco diffusa nel nostro territorio, ma molto più diffusa in quello che potrebbero essere i turisti che vengono dall'estero. Quindi, in questo momento mi verrebbe da chiedere dove l'amministrazione penserà di allocare questa colonnina, e anche io, anche noi, ci uniamo al plauso fatto dal consiglier Somaglia, perché poco tempo fa il nostro gruppo è stato presente a un'inaugurazione di un sito alla quale un'azienda importante del nostro territorio ha fatto un attimo da propulsore di questa proposta di insegnamento di colonnine elettriche, per dare la possibilità che i proprietari di automobili elettriche possano rifornirsi addirittura all'interno dei propri locali in maniera gratuita. Quindi, attendo la risposta dell'amministrazione. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Risponde? Sì. L'assessore Borrelli, prego. Io prendo atto che c'è una grande condivisione rispetto a questo indirizzo che viene dato rispetto all'installazione delle colonnine, e vi posso assicurare che l'obiettivo non è quello di fermarsi all'installazione di una colonnina, ma abbiamo già contatti con altre realtà per installare anche altre colonnine all'interno della nostra città. Rispetto, però, alla considerazione che faceva il consigliere Tripodi e al costo, i 17 mila euro, se non avessimo partecipato al bando, sarebbero sufficienti per l'acquisto di una colonnina. E quindi, in questo caso, noi avremo la colonnina, ma avremo anche l'auto. Non avessimo partecipato al bando, quindi quando lei dice utilizzate quei soldi per l'acquisto, tutti quei soldi per l'acquisto delle colonnine, avremmo utilizzato 17 mila euro solo per l'acquisto di una colonnina. Qui riusciamo ad avere anche l'auto elettrica. Stiamo facendo delle valutazioni. Ci sono due aree, una è a Movicentro e l'altra, nella parte alta della città, Piazza Spreitenbach o altre zone. Però devono essere zone visibili e accessibili in qualunque momento. Grazie. Grazie all'assessore. Chissà se trattandosi di auto elettrica è una spesa di investimento, una spesa corrente. Questo me lo faccio poi spiegare dall'assessore alle finanze. Comunque, ci elettrizziamo un po', la corrente alternata. Consigliere Maju, prego. Grazie Presidente. Sì, mi nusco anch'io a questo, insomma, complimento per questa operazione. Penso che il cambiamento culturale debba partire, insomma, anche da chi amministra. E quindi se vogliamo anche avere una città meno inquinata e anche spingere le persone a fare acquisti in questa direzione bisogna portare a buon esempio. Mi ricordo che quando uscivano le macchine a GPL, a metano, le persone decidevano se comprarlo o meno in base alla presenza di distributori che forniscono determinato gas. E quindi anche il decidere o meno se comprare una macchina elettrica impedirà molto anche dalla disponibilità di colonnine. E quindi un'operazione assolutamente buona e ottima, ma che, ammetto, debba essere accompagnata da una correnza generale, perché in questo caso si parla di mobilità, però è sempre legata molto alla mobilità automobilistica. Quindi una città a prova di macchine, secondo me, debba essere molto accompagnata da una mobilità ciclabile, che è in centro, ancora oggi, tutt'oggi, a parte nella zona pedonale, è difficile riuscire ad avere. Sulla questione neve, io penso che se il Comune avesse applicato la legge in maniera rigida, avrebbe fatto tante sanzioni, perché in tantissime case i cittadini purtroppo non hanno pulito. Tantissime persone non hanno fatto, insomma, un loro dovere civico. Però a questo mi allaccio anche a una mancanza culturale di un gruppo che abbiamo avuto alcuni anni fa legato all'emergenza neve, che era un gruppo di persone, che ribadisco qui tutt'oggi, era un gruppo di diverse persone, una ventina di persone, che si incontravano alle 5 di mattina, quando nevicava, e in maniera volontaria pulivano alcune zone sensibili e strategiche della città. Secondo me si può fare molto per recuperare questo gruppo, lo si era fatto molto con la consulta giovanile, lo si può fare proprio come Comune, strutturalmente, invitando associazioni, invitando gruppi, a poter aderire a un progetto che è vero che paghiamo già dalle persone per fare questo, e ovviamente debbono farlo. Ma questo non solo aiutava a creare discussione, conoscenza tra i cittadini, io stesso mi sono trovato, anche da un punto di vista culturale, a trasmettere una cosa che forse a parole non aveva mai trasmesso. C'era una persona che non conoscevo, una persona di, non dico estrema destra perché non era estrema destra, ma di centro destra molto convinto, e non mi conosceva come, non pensavo fossi, insomma, di origine marocchina, ma ha visto pulire le scale della chiesa, e parlavo da una cosa all'altra, ma poi ha scoperto l'ultimo che era musulmano, e ci è rimasto un po', gli ha fatto molto piacere. Quindi secondo me si creano anche dei meccanismi molto importanti che aiutano una coesione sociale, quindi punterei assolutamente, anche come l'amministrazione, al fatto di far rinascere movimenti civici simili. Grazie. Purtroppo il gruppo si è sciolto come neve al sole, purtroppo. Cambiamento climatico, certo. Allora, mi pare che non ci siano più richieste di intervento. Va bene, quindi poniamo in votazione la delibera. Stessa trafila, dovremmo sempre essere in quindici. Ancora due persone hanno votato, va bene così. Possiamo votare. Votazione chiusa. La delibera è approvata con dieci voti a favore, un voto contrario e quattro voti di astensione. Passiamo alla proposta numero sei. Esatto, proposto numero sei. Oggetto quinta variazione al bilancio di previsione 2018-2020, ratifica deliberazione della giunta comunale numero 93 del 29 maggio 2018. Ancora illustra l'assessore Fogliato. Parliamo appunto della quinta variazione di bilancio, alcune precisazioni dal punto di vista contabile. In questo caso è una variazione di bilancio che modifica il programma triennale delle opere pubbliche, a partire dall'anno 2019, con l'iscrizione dell'intervento, cioè della partecipazione da parte del Comune a un bando regionale per lavori di adeguamento sismico e strutturale dei locali sito all'interno del complesso scolastico plesso Rita Levi-Montalcini. È un bando regionale, il cui esito, ecco, presumibilmente potrebbe essere per fine anno e che prevede appunto un contributo totale per quanto riguarda, se con esito favorevole, ecco, la Regione assume il mutuo con erogazione del contributo a favore dell'ente assegnatario del beneficio, con restituzione sia capitale che interesse a caico della Regione. Grazie, Assessore Fogliato. Consigliere Marengo, Somaglia, abbia pazienza. Grazie, Presidente. Dunque, con favore accogliamo questa proposta di valiazione di bilancio, ne aveva già ampiamente illustrato i contenuti l'Assessore in Commissione Finanze e se tutto andrà a buon fine lo speriamo perché, dicevo prima, accogliamo favorevolmente, però siamo stati abituati da questa amministrazione ad alcune notizie ridondanti e poi, ahimè, i bandi sono andati, come tutti sappiamo, lo ricordava anche la consigliera Milazzo in apertura di consiglio. Quindi, ci auguriamo proprio per l'intervento importante su una struttura scolastica che, almeno questa volta, le cose vadano per il verso giusto e colgo l'occasione, visto che si parla ovviamente del Piano Trinale dei Lavori Pubblici che si faccia uno sforzo per intervenire sulla facciata della scuola verso via Vittorio che versa in condizioni, prima del 2019 mi auguro, che versa in condizioni pietose, consentitemi il termine, una rinfrescatina, quantomeno alla parte del portone, occorrerebbe farla senza attendere interventi del 2019. Grazie. Grazie. Prego, prego. Non intervengo più. Il nostro voto sarà un voto di astensione proprio perché comunque apprezziamo l'intervento. Grazie. Grazie al consigliere Somaglia. Allora, sì, ci sono interventi perché so che due assessori vorrebbero già rispondere ai rilievi. Beh, facciamo rispondere gli assessori. Allora, prima l'assessore Fogliato, poi l'assessore Messa. Non è un rilievo per quello che mi competenza, ma solo una piccola contrazione. Comunque, è vero, parliamo di cifre importanti, però per la partecipazione richiede la variazione di bilancio e pertanto questo lo dobbiamo portare. Su altro aspetto, sappiamo bene che criteri hanno usato per assegnare o meno. Ecco, perciò criteri assolutamente non condivisibili, ma credo che questa condivisione sia generale. Ecco, parlo quello del Ministero. Assessore Messa, prego. Sì, provo solo a fare alcune precisazioni rispetto alle riflessioni che faceva il consigliere Somaglia. Naturalmente siamo assolutamente consapevoli della situazione della facciata su Via Vittorio, tant'è che l'amministrazione aveva già predisposto un progetto esecutivo del recupero dell'intera manica di Via Vittorio Emanuele 200, con la possibilità di recuperare i locali. Ricordo che anche questo progetto l'avamo presentato nella Commissione dei Lavori Pubblici. Il tema è che il bando, quando è uscito, ci siamo resi conto che imponeva l'adeguamento sismico non solo della struttura di Via Vittorio Emanuele 200, cosa che avevamo fatto, di cui avevamo già ottenuto anche pareri favorevoli, ma imponeva l'adeguamento sismico dell'intera struttura, quindi anche delle maniche adecenti. Nonostante tentativi di chiarimento, la Regione ha imposto questo adeguamento dell'intera struttura, non solo della struttura del oggetto di intervento, che è quella che interessa soprattutto noi, sia per il recupero estetico della facciata, ma anche per il recupero interno dei locali, e quindi siamo dovuti passare a uno studio di fattibilità e di adeguamento sismico dell'intera struttura, per cui in questo passaggio è stata anche aumentata la cifra, che è passata da circa 1 milione di euro, 800 mila euro, previsto per il recupero della manica, al 2 milioni e 4, presente in questa variazione di bilancio. Grazie, l'assessore. Mi pare che ci siano interventi, quindi procediamo alla votazione della proposta numero 6. Segnaliamo la presenza. È uscito il consigliere Amagiu, è uscito anche Astegiano. Astegiano sta rientrando. Sono 14, con Astegiano sono 14, quindi i 14 hanno prenotato, cioè ci sono segnalati, va bene, hanno prenotato le vacanze. Ancora 2, ancora 1, va bene, votazione chiusa, la delibera è approvata con 9 voti favorevoli e 5 astenuti. Passiamo alla proposta numero 7, sesta variazione del bilancio di previsione 18-20, ratifica e deliberazione della giunta comunale numero 96 del 5 giugno 2018. Illustra ancora l'assessore Fogliato. Qui richiamerei un attimino il consiglio comunale di aprile, quando siamo andati in approvazione del consultivo e pertanto è determinato l'avanzo di amministrazione. Nella scomposizione dell'avanzo vi era un accantonamento di 71.821 relativo agli arretrati contrattuali da corrispondere al personale dipendente. La variazione di bilancio che andiamo a votare prevede appunto l'utilizzo di questo accantonamento. Arriviamo a questa variazione di bilancio, come già detto in Commissione, a seguito anche del pronunciamento della Corte dei Conti in sezioni riuniti, che con la delibera numero 6 2018, vieta sì di utilizzare l'avanzo per finanziare gli aumenti contrattuali che per gli incrementi a regime, mentre esclude da tale divieto gli arretrati, ed è l'accantonamento si riferisce proprio agli arretrati contrattuali. Grazie all'assessore. Allora, se non ci sono interventi su questa delibera, non mi pare ci siano. Va bene, possiamo procedere. Allora, siamo sempre in 14, sì. Ah, siamo in 15. Stiamo votando la delibera numero 7. Quindi, consigliere Maggiù, se vuole, può segnalare la presenza. Quindi, siamo 15. Ancora uno. Va bene, possiamo votare. Sì. Votazione chiusa. Delibere approvata con 10 voti favorevoli e 5 astenuti. Opposta numero 8. Assestamento al bilancio di previsione 2018-2020. Assessamenti, a insensi dell'articolo 75,8 del decreto legislativo 267 del 2000. E a lui illustra ancora l'assessore Fogliato. Sì. Allora, parliamo di assestamento di bilancio previsione. Ormai due anni che, in base ai nuovi decreti legislativi, hanno anticipato quello che una volta era entro il 30 novembre dell'anno, hanno anticipato entro il 31 luglio, comunque, una variazione di bilancio. Perché poi l'assestamento è nient'altro che un'articolata e corposa variazione di bilancio che prendesse un pochettino in visione i vari articoli. Noi abbiamo deciso di anticipare di un mese la scadenza di legge che, come detto prima, è il 31 luglio, in quanto abbiamo inserito in questo assestamento, barra variazione di bilancio, l'iscrizione nel nostro bilancio, quello che è il frutto della delibera che abbiamo assunto nell'ultimo Consiglio Comunale, quello di un mesetto fa, cioè, valla dire, il dar vita alla convenzione con capofila al Comune di Brà dei servizi sociali. Convenzione che ha visto in data 19 giugno la sottoscrizione da parte di tutti i sindaci degli 11 comuni che aderiscono a questa convenzione, pertanto l'AS ci ha girato, diciamo così, i capitoli di spesa e i capitoli di entrata relativi al secondo semestre. Nell'allegato, almeno per i vari commissari della Commissione Finanze e Tributi, hanno anche ricevuto la variazione del PEP perché vi è stato così indicato in modo analitico la scomposizione della voce di 2.800.000 euro, meno di 15.000 euro che invece incidevano come fondo di riserva. Scomposizione analitica sia per quanto riguarda la parte spesa sia per quanto riguarda l'entrata. A questo, per quanto riguarda il tema della convenzione, seguirà poi ancora un'altra variazione di bilancio appena i competenti uffici dell'AS avranno provveduto alla chiusura definitiva dei conti relativi al primo semestre per quanto riguarda pagamenti e incassi. Nell'assestamento è vero, la parte dell'Aone come articolazione di capitoli, come cifra, lo fa questo l'aspetto della nuova convenzione, vi sono ulteriori però cifre molto più basse, vale a dire 2.519,58 che è maggior accertamento per il trasferimento statale per i 5 per 1.000, anno di imposta 2015 che vanno per l'impegno preso dall'origine, quando il Comune ha deciso di essere presente anche alla proposta ai cittadini per quanto riguarda il tema del 5 per 1.000, in questo caso sulle progettualità dei tirocini. Dopodiché vi è un trasferimento da parte del Consorzio Social Assistenziale del Cuneese di 9.179,90 finalizzato al progetto di spesa a donne vittime di violenza e un maggiore accertamento di 8.500 euro per diritti di segreteria e istruttoria. Altro importo 4.831,59 per il rimborso spese utenze per la colonia di Laigueglia. Diciamo che per la parte spesa sono abbastanza spezzettate questi importi, vi sono già quelli due aspetti che vi dicevo prima, cioè l'aumento della voce per quanto riguarda l'attivazione di tirocini e l'iscrizione nel bilancio per il progetto donne vittime di violenza. Volevo ancora segnalare una cosa e torno un attimino indietro, che per quanto riguarda i vari capitoli di spese e di entrata relativi alla Convenzione Politiche Sociali, pur rientrando nella funzione 12, che è politica per la famiglia, politica sociale eccetera, è stata creata una numerazione specifica in modo che si abbia sempre la possibilità di avere il polso della situazione, dell'andamentale specifico della Convenzione, quasi come fosse il termine, mi sono già scusato in Commissione, forse non è proprio così bello, quasi forse una contabilità industriale per capire bene, sia noi come Comune di Bra, perché comunque in questa sede avremo sempre le variazioni di bilancio, anche sotto aspetti che non è detto che tocchino sempre il Comune di Bra, ma soprattutto all'organo supremo della Convenzione, che è l'Assemblea dei Sindaci, che avranno la possibilità di scorporare dal Comune di Bra, l'andamentale dei conti relativa alla Convenzione. Grazie Assessore. Non ci sono interventi su questa delibera? Consigliere Somaglia, prego. Siamo in una fase in cui la norma prevede la presentazione dell'assestamento, poi è cambiato molto rispetto al passato, quando chi come me ha qualche anno di esperienza. Questa diventa una grossa variazione del bilancio a cui dare o meno il nostro voto positivo o negativo. Allora, noi abbiamo votato negativamente all'impianto generale del bilancio, perché non condividevamo alcune iniziative, non condividevamo quindi l'impianto generale della proposta dell'amministrazione. Oggi ci siamo stenuti su diverse delle delibere presentate dall'assessore, perché avevano come come argomento iniziative interessanti. In questo caso qui, e premetto il nostro voto contrario, sia perché ci rifacciamo a un discorso più generale del bilancio, ma soprattutto perché fa da parte, la parte del Leone, lo ricordava anche l'assessore, la variazione che prevede l'assorbimento, se consentitemi la semplicità del linguaggio, l'assorbimento dei capitoli riguardanti la socioassistenza. Noi, un mese fa circa, in Consiglio, ci siamo espressi in maniera negativa, non tanto sul fatto che la socioassistenza ritornasse in capo diretto ai comuni con la convenzione presentata, anzi, siamo stati favorevoli e abbiamo rimarcato questo, ma per la, ancora una volta, per la frettolosità con cui si debba arrivare a provare o meno certe delibere. Noi avevamo, la nostra idea che abbiamo espresso era quella di prenderci tutto il tempo necessario per riflettere sulla soluzione migliore o meglio sulla regolamentazione migliore della convenzione. L'amministrazione ha deciso che i tempi corretti per la partenza della convenzione fossero quelli presentati e quindi il nostro voto contrario sulla delibera di assestamento presentata deriva soprattutto dal fatto che questa delibera va a fare delle variazioni, ad approntare delle variazioni di bilancio consistenti riguardanti in modo preponderante proprio la socioassistenza e la partenza della nuova convenzione riguardante, ripeto, la socioassistenza. Per questo il nostro voto sarà molto contrario. Grazie. Grazie a lei. Consigliere Somalia. Consigliere Ferrero, prego. Ma solo per dichiarazione di voto, nel senso che per la coerenza che noi vediamo con l'impianto di tutto il bilancio di previsione, quindi a nome della maggioranza esprimiamo il parere favorevole a questa proposta di deliberazione. Grazie. Grazie a lei. Ha chiesto la parola il Consigliere Allasia, prego. Grazie, Presidente. Sì, per quanto riguarda la parte più importante di questo assestamento, la parte più importante è quella riferita al rientro, all'inglobamento delle funzioni socioassistenziali nel nostro comune come ente capofila tra i comuni del distretto dell'ASCN2. Le motivazioni contrarie a questo passaggio, l'abbiamo già espresse a tempo e debito, non sto qui a ripeterle, contrarie al passaggio per i modi e i tempi. Adesso ho sentito che si vede con favore a questo ritorno, però io mi ricordo che il nostro gruppo è stato l'unico a votare contro il passaggio inverso, cioè al passaggio alla delega all'ASCN2, ma questo ha poca importanza, se non un po' di rilevanza per le cronache. Non ci convince il passaggio nei modi e nei tempi, pensiamo che si potessero prendere tutti gli spazi concessi dalla delega stipulata con l'ASCN2. Pensiamo anche che non sono ancora tenuti in debite considerazioni i problemi dell'anticipazione di cassa, che vengono aggravati da questo passaggio in corso d'anno, perché a fronte di una situazione che ancora non può essere certa nel passaggio di consegne tra ASL e Comune, a precisa richiesta in Commissione, ci è stato detto che per quanto riguarda la parte finale dell'anno non siamo ancora in grado di prevedere cosa significhi in termini di anticipazione di tesoreria. Rispetto alla questione delle deleghe delle funzioni socioassistenziali, tutto questo è, se vogliamo, contorno tecnico. Noi adesso stiamo parlando proprio però del contorno tecnico. Per questa ragione nutro perplessità su questo assestamento, perché secondo me giunge in un tempo non opportuno e perché potrebbe essere quasi certamente un aggravio delle condizioni dell'anticipazione di tesoreria. Adesso sono effettivamente, mi pare, due anni di seguito che la Corte dei Conti ci segnala questo problema e nonostante le nostre risposte puntuali, comunque anche nell'ultima delibera della Corte dei Conti, mi pare se chiami delibera, correggetemi se sbaglio, c'è comunque di nuovo una conferma del richiamo di porre in atto delle procedure e dei provvedimenti per diminuire l'anticipo di tesoreria che si sta estendendo in massa complessiva, ma anche in profondità per quanto riguarda il numero di giorni medi di ricorso, perché il 2017 ha segnato un altro deciso aumento. Ecco, questa situazione crea un aggravio, non ci sono ancora particolari strategie di compensazione da questo punto di vista, perché non sapendo di quanto sarà l'aggravio non abbiamo scenari, nel senso che non abbiamo un scenario pessimistico e un scenario ottimistico. è stato spiegato in Commissione che il Comune, correttamente, a mio avviso con un atto di corretta e buona amministrazione, ha bussato in Regione per chiedere che per quanto riguarda l'anno che precede di gestione della socioassistenza, anticipi la quota parte di finanziamento riservata all'ente socioassistenziale nella forma che vogliamo. C'è stata anche una leggera modifica per quanto riguarda il contributo di compartecipazione dei Comuni, ma sappiamo già che questo non basterà a colmare l'aggravio che ne conseguirà. Non avendo ancora strategie, la possibilità di avere strategie possibili per la fine dell'anno, questo passaggio ovviamente aggraverà la situazione. Per questo motivo siamo critici nei confronti di questo assestamento e anticipo l'espressione di voto contraria. Grazie. Grazie a lei. L'assessore Fogliato ha chiesto la parola per una precisazione. Chiesto una precisazione, usavo il termine, non ricordo più, forse consapevolezza. Bene, allora se è riferito logicamente all'importo, sì, vedo ragione, l'abbiamo detto anche in commissione, l'ha detto lo stesso dirigente che rappresenta, non si è ancora l'idea. Il fatto della consapevolezza è riferito all'importanza del tema, ad agire per limitare tutto, siamo ben consapevoli di questa importanza, a tal punto che, come lei correttamente ha ricordato, il Sindaco si è fatto promotrice di contatti, di interazioni, finché si è arrivato appunto a un accordo con i due assessorati alle politiche sociali e al bilancio della Regione Piemonte, ottenendo nel nostro caso specifico il pagamento immediato, ecco, entro il fine mese, per quanto riguarda la quota che spetta alla nostra Convenzione che è già stata deliberata nel bilancio di previsione della Regione anno 2017. Perciò parliamo di tempistica quasi biblica sotto questo aspetto. Nello stesso tempo il regolamento che è stato votato la scorsa volta relativa alla Convenzione prevede anche una modifica delle tempistiche di pagamento, anche qui ricordato da chi è intervenuto prima, da parte dei Comuni le quote di loro spettanza. Ecco, questo è segnale che siamo molto consapevoli e anche preoccupati di questo aspetto, ma siamo consapevoli anche per quanto ci riguarda il tema dell'anticipazione di tesoreria relativo al nostro bilancio, a tal punto che, come già ricordato in conferenza a Capigruppo e poi dopo in Commissione Finanze e Tributi, si è interfacciato sempre il Sindaco con la Corte dei Conti proprio per spiegare e illustrare ed è monitorato in modo costante da parte del dirigente degli uffici della ragioneria. Ecco, volevo solo fare questa precisazione sul significato consapevolezza. Grazie all'assessore. Consigliere Allasia, prego. Una battuta, solo una battuta riguardo alla questione consapevolezza. Lei sicuramente mi insegna che nel caso dei numeri di bilancio la consapevolezza non basta. Diciamo, avere i sagrin non è sufficiente. Aiuta a non dormire bene, no? Il problema è sapere esattamente da che parte si va. Quello che mi piacerebbe vedere, ne avevamo parlato un anno fa, e vedere una reportistica sull'analisi dei flussi di cassa e di vedere quindi delle previsioni dei flussi di cassa. Immagino che si facciano anche degli scenari, il positivo, il negativo, il valore intermedio. Ne avevo parlato, mi pare, all'approvazione del bilancio consuntivo del 2016, sempre sullo stesso tema. Mi è stato detto, sì, ce l'abbiamo, ma mi piacerebbe vedere in Commissione Finanza, per esempio, su questo tema, era un tema importante, c'è un assestamento, c'è una previsione, una consapevolezza, come diceva l'assessore, di un aggravio della situazione dal punto di vista dei flussi di cassa, ma cerchiamo di stimarla. Non ci sono numeri certi, ma sicuramente ci sono delle finestre, almeno dal punto di vista, diciamo, tecnico. Normalmente si fa così, delle finestre in cui possiamo prevedere degli scenari di diversa gradazione, dai più foschi ai più ottimisti, anche perché c'è una storia riguardo al bilancio della socioassistenza che non è una storia recente, quindi è una storia che ha un consolidato e quindi dei ragionamenti a riguardo si possono dare. Quindi, come dire, piena solidarietà sulla consapevolezza, diciamo. Non ci sono dubbi. Però, numeri. Grazie. Se volete provo a mettervi d'accordo io. Consapevolezza si dice anche contezza. L'assessore tiene i conti del Comune, pertanto ne ha contezza. Chiudiamola in questo modo, visto che sono sinonimi. Contezza e consapevolezza. Contezza e consapevolezza. Va bene. A parte i giochi di parole, andiamo avanti. E se non ci sono interventi, si mette in votazione. Va bene. Non ci sono interventi, quindi poniamo in votazione. E' uscito Marengo. E' uscito Marengo. Marengo, va bene. Quindi può ancora votare? Sì. Siamo sempre 15. Va bene. 15. Possiamo votare. E c'è poi anche la Die. Su questo. Votazione chiusa. Delibera approvata con 9 voti favorevoli e 6 con... Passiamo all'immediata eseguibilità. Sì. Estivi. Va bene. 15. Possiamo votare. Votazione chiusa. Stesso il risultato di prima. 9 voti favorevoli e 6 contrari. Delibera. Numero 9. Salvaguardia degli equilibri di bilancio del 2018 ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 267-2000 e successive modifiche e integrazioni. illustra ancora l'assessore Fogliato. Sì. Diciamo che questa delibera, un pezzo è collegata a quella precedente. È una delibera che da quando, due anni fa, anche qui, se non sbagliamo, due o tre anni fa, è stata svuotata dall'altro pezzo, che sono lo stato avanzamento dei programmi, è diventata veramente una delibera tecnica dal punto di vista di verifica degli equilibri di bilancio. Anche qui richiamo, quello che ho detto prima, le tempistiche sono cambiate. Alcuni anni fa si aveva più tempo, era prevista per più avanti ed era abbinata allo stato avanzamento dei programmi. Ora la scadenza limite è il 31 luglio, anche in questo caso abbiamo voluto anticiparla per le stesse motivazioni dette prima relativo all'assessamento, in quanto volevamo dare una verifica degli equilibri di bilancio, prima o almeno in contemporanea con l'acquisizione dei vari capitoli relativa alla convenzione delle politiche sociali. Volevo solo distinguere un attimino dal punto di vista tecnico. L'assessamento è una ricognizione sui vari capitoli del nostro bilancio. L'aspetto degli equilibri di bilancio, invece, è una proiezione futura. Ci proiettiamo mentalmente verso fine anno e andiamo a verificare se con l'andamento che abbiamo in corso non ci saranno debiti fuori bilancio, non ci saranno previsioni di disavanzo, perché così fosse qui non ci sarebbe solo una delibera di equilibri di bilancio, ma ci dovrebbe essere anche una delibera di sistemazione di questo possibile disavanzo. Io ringrazio il grosso lavoro, perché noi arriviamo a questa delibera con questo atto formale, ma dietro vi è da diverso tempo un grosso lavoro che ha fatto l'ufficio regioneria, ma che ha coinvolto tutti gli uffici, perché ha assemblato i dati, grosso lavoro che ha riguardato sia l'assessamento, ma poi anche gli equilibri di bilancio. E l'altro lavoro, importante lavoro, anche di consiglio, che è stato quello dei revisori dei conti, in quanto ci hanno supportato in questo compito. In ultima riflessione questa, il lavoro dell'assessamento, il lavoro degli equilibri di bilancio, il lavoro che spetterà con delibera di giunta dello stato avanzamento dei programmi, tutte attività propedeutiche per andare a riaggiornamento del documento unico di programmazione, il DUP, entro il 31 luglio, per metterlo a disposizione poi del Consiglio. Grazie all'assessore Fogliato. Ci sono interventi? In effetti delibera squisitamente tecnica, quindi. Allora, se non ci sono interventi, si mette in votazione l'ultima delibera, numero 9. Siamo presenti? Sì, è tornato il sindaco, quindi siamo sempre in 15. Sì, è tornato il sindaco, quindi siamo sempre in 15. Va bene, segnalata da parte di tutti, si può votare. Ancora due. Mancano due voti. Ancora uno. Va bene. Votazione chiusa. Delibere approvata con nove voti favorevoli e sei contrari. Bene, il Consiglio è chiuso. Grazie a tutti. Buona serata.